che mi hanno detto che stavi già in un certo senso reactando, parlando tu del mio video sul tuo canale TikTok ed era, se non sbaglio, una live perché volevo cercarla per capire anche un po' quello che avevi detto, ma non l'ho trovata Sì, 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 ho fatto live appena, appena non lo so però comunque proprio dopo che tu avevi pubblicato il video diciamo, quindi ho fatto la reaction Sì, l'ho visto un paio di volte perché ci sono dei punti che in realtà volevo capire bene Hai fatto bene, hai fatto bene, anche perché mamma mia, 40 minuti di velocità è veramente parecchia roba Beh, comunque anche col tuo modo di comunicare è molto tutto, cosa posso dire c'è un certo ritmo, quindi comunque ci devi stare abbastanza attento Perché, secondo me il punto è che se devo fare una critica perché in realtà io sento che ci sono cose che non mi stanno bene di quel video lì devo capirle e devo capire soprattutto te perché altrimenti non riesco a fare una video Grazie infatti di essere venuto qua anche perché io l'ho solamente detto in live, dite ad Alessio di venire non t'ho proprio contattato, anzi mi hai contattato tu, grazie Sì, no, perché in realtà me l'aveva detto non mi ricordo chi in live da me mi ha detto guarda, in realtà c'è Marco che vorrebbe fare una live non lo so, se mi vuole contattarmi però poi ho detto vabbè dai, lo chiamo io Grazie, grazie Allora, diciamo che ci sono un po' di punti prima di fare una panoramica su quello che è il mio pensiero sul video vorrei un attimo capire da te una cosa Sì Un paio di cose Allora, tu a un certo punto del video mi pare una delle parti iniziali del video parli di cecchini alla finestra che tu ti senti un po' come se ci fossero dei cecchini alla finestra Sì, sì, sì Ora, io vorrei un attimo capire chi sono questi cecchini per te che tipo di... cioè come mai ti sei sentito così Certo, certo diciamo così tanto messo sotto torchio cioè chi sono questi nemici che ti stanno puntando il fucile addosso Certo, certo, certo Allora, ci sono stati letteralmente dei momenti nel montaggio del video dove mi sentivo cecchinato dal punto di vista che avevo paura di scegliere le sbagliate parole e le sbagliate... che è poi ironico proprio questa qua è una... a quanto pare ha rappresentato una sbagliata parola o le sbagliate immagini addirittura per mandare un messaggio un po' del cazzo che magari avrebbe un po' confuso l'idea ti faccio proprio un esempio vero c'è stato un momento in cui parlavo dei carnefici e delle vittime e che in un certo senso si intercambiano l'immagine quando magari c'è un certo immobilismo dalla parte della vittima o c'è un certo pianisteo dalla parte del carnefice e quindi si scambiano e là dovevo utilizzare delle immagini perché dicevo non so se avete notato ma al di là di quello che è stato il motivo, fonte molti dei modi di fare per incriminare, per recriminare cose al prossimo online sono molto molto uguali a quelli che usano le persone a cui stiamo recriminando qualcosa quindi ho fatto una specie di elenchino ho detto esclusione sociale svilimento degli ideali e in quei momenti là io ti giuro che ci ho messo ma nel senso venti minuti interi per cercare un'immagine io ricordo che anche quando avevo detto attacchi mediatici io non avevo idea davvero di che immagini usare perché nonostante gli attacchi mediatici ne esistano affiotti io ho visto anche nel tuo TikTok che parli anche di Max Walsh il tizio che ha fatto What is a Woman Max Walsh sì, quel transfobico del cazzo posso dire transfobico del cazzo? transfobico del cazzo secondo me più che transfobico del cazzo è un gran confusone che sa poco e che dice tanto e quindi ha veramente tutti i diritti per sembrare tutto ciò che vogliamo pure di negativo perché comunque sembra che ci sia del buono in quello che vuole fare ma porca puttana se lo sta facendo in un modo sbagliato a volte per me invece lui è proprio scusami se ti dico questa cosa per me Matt Walsh è proprio un transfobico di merda che non fa nient'altro che perlomeno per me per la mia visione della cosa non fa nient'altro che aderire perfettamente a quella che è l'agenda conservatrice americana che è un'agenda che è completamente opposta a qualunque tipo di progresso anche da un punto di vista di riconoscimento dei diritti di persone che hanno soltanto una sola richiesta che è quello di vivere una vita normale di non essere eventualmente uccisi per strada ora finisco un attimo quello che avevo da dire del mio e poi parliamo di mox se vuoi perché alcuni in centro conosco alcuni no quindi questo avevo quindi questa paura di propinare delle immagini magari così sbagliate a volte mi capitava pure di dire ma ok sto parlando del carnefice chi utilizzo per parlare del carnefice utilizzo il classico mino blu tipo di MSN o utilizzo l'immagine di una ragazza però già ne ho utilizzate tre quindi magari la gente sta pensando che sto visualizzando quello come carnefice o utilizzo quella di un maschio però comunque sto parlando di un argomento più legato al femminismo quindi mi serve utilizzare quello a volte mi sentivo veramente troppo responsabile ma proprio delle immagini e delle parole che dicevo e quindi erano questi i cecchini di cui parlavo perché comunque sia nel video stesso io dico ma veramente iniziamo a lavarci le mani di questa frase qua di non si può dire più niente perché ci sono questi grandi cancellatori perché non è vero ma soprattutto gli utenti che non hanno una certa responsabilità quindi in questo caso non sto parlando né di me né di te di educazione comunque anche mediatica possono dire il cazzo che vogliono cioè ma trezzi le prime settimane di trezzi se non queste è la prova che si può dire il cazzo che si vuole ma nel senso che entro su trezzi e leggo ebrei merda morite con le svastiche grande troppo black humor troppo wow quindi non è neanche la cosa peggiore che scrivano là sopra no no ma guarda ma ti giuro che io da veramente da un po' di tempo questa parte sto cercando di autoterapizzarmi cercando un attimo di abbandonare quei luoghi che so che ci entro solamente per arrabbiarmi e sembra che la nascita di trezzi in realtà a me emozionava perché dicevo ah c'è un posto nuovo e molta gente si lamenta di internet me compreso mi sa che sarà ma per osmosi sarà un bel posto perché la gente è stufa quindi là non sarà più stufa perché è un nuovo modo di iniziare no ha provato che purtroppo internet è utilizzato moltissimo è cosa che neanche tanto recrimino quanto quasi mi metto a piangere come luogo per sfogarsi tantissimo ti faccio un esempio quando è successa la roba di Giulia Cecchettine e la roba di Elena qua là io ho messo una storia dove dicevo minchia quanto si deve sentire Filippo figo a sapere che la maggior parte degli italiani stanno continuando a insultare il suo papà invece di affezionarsi più al come mai cioè perché sto stronzo ha ucciso una tizia è più interessante ma anche più vitale anche a livello giornalistico no rompiamo i coglioni a Elena e a suo papà e io ho scritto questa storia che ovviamente scritta può sembrare merda non gli interessa nulla di Filippo infatti mi ha contattato una ragazza no non mi ha contattato mi aveva taggato una ragazza incazzatissima con me mi aveva dato del mangiammerda dicendo questo figlio di puttana ma come si permette e io l'ho contattata dicendole merda però che strana cosa iniziare una discussione così mi ha dato del mangiammerda ma ti sembra giusto e lei in maniera molto onesta e molto vera a cui credo fermamente mi ha detto Marco sono solo stanca in questi giorni non ho parlato altro di Giulia con tutti i miei amici maschietti che magari non capiscono un cazzo con tutte le mie amiche femmine che sono stanche come me ed è una cosa che è davvero trasuda da tutte e siamo stanche e a volte la stanchezza porta a dire cose del cazzo ed era un po' in realtà quello che recriminavo io ovvero che so bene che la stanchezza è un fattore che arriva quando vuoi educare qualcuno anche nel tuo piccolo anche nel tuo social se non sei un cazzo di nessuno ma è anche qualcosa a cui tu devi dare atto se sai che stai parlando con una community di maschi che veramente hanno la difficoltà di provenire da una famiglia magari o da una storia con sto cazzo di patriarcato e sono un po' dei fra virgolette disabili mentalmente ma nel senso che non ci hanno potuto manco fare nulla da questo punto di vista è uno dei momenti in cui possono farci qualcosa trovano delle persone che gli danno delle mangi a merda è un po' un cane che si mangia la coda da solo e quindi questo è proprio i cecchini di cui ti volevo parlare ovvero sono sempre più inconscio che più è sensibile all'argomento più le parole che utilizzo devono essere veramente prese con le pinzette su questa cosa che tu hai detto la cosa che però non riesco a diciamo a capacitarmi che non riesco a capire allora a parte il fatto che ecco appunto con questi cecchini come tu me li hai definiti in questo momento il video che tu hai fatto ha riscorso un bel successo come tanti altri video tuoi comunque in generale ora questa non è una critica ma in generale c'è stato una sorta di plebiscito no? cioè il tuo video è stato apprezzato praticamente da chiunque l'abbia visto a parte qualcuno come me ad esempio che dice no questo video non mi è piaciuto quindi cioè questa paura non pensi che questa paura di questi cecchini sia un po' una sorta di e ripeto non è una critica ma te la voglio mettere un po' un secchiante ho capito un po' di mania di persecuzione sai perché no? no no dico visto i risultati visto quello che tu comunque perché tu comunque sei consapevole di tutto questo cioè tu sei consapevole del fatto che non esiste non è che non si possa dire proprio nulla si può dire tutto quello che cazzo volete e tutto quello che cazzo vogliamo e nella stragrande maggioranza dei casi nessuno di quello che dice qualunque cosa che gli passa per la testa passa un guaio anzi anzi viene elogiato il tizio che dice brei merda il tizio che dice Elena Cecchettini io ho visto gente a dire Elena Cecchettini io spero che te stuprino cioè delle cose veramente grevi sì sì cioè non pensi che ci sia in questo senso qui visto il successo del video visto che comunque c'è stata questa reazione da parte del pubblico non soltanto tu perché immagino che non è che abbiano visto soltanto i tuoi follower il video effettivamente un po' di mania di persecuzione in questo senso qui io sai perché non penso questa cosa perché intanto vorrei veramente farti entrare dal mio punto di vista ed è quello che ahimè non utilizzo il successo e l'approvazione magari dei commenti delle identifizioni del video per determinarne il ah meno male allora queste cose potevo dirle ah ok cazzo non posso dirle ma ti parlo anche da un luogo ehm professionale in cui mi sono andati molto bene dei video e l'ho odiati per questo perché magari mi sarei rimangiato qualcosa in futuro riguardandoli e invece mi sono andati male dei video in cui magari mi incazzavo dicendo merda la gente non l'ha capiti però ne sono contento quindi per fortuna o per sfortuna non so come dichiararmi da questo punto di vista non reputo questo come cioè non reputo i risultati del video a livello di successo e di approvazione come prova del fatto che sto dicendo una cosa giusta o una cosa sbagliata esempio questa già discussione con te per me vale mille commenti se non di più e quindi cercare un attimo di fare intanto amicizia ma anche dire cosa c'è che non va cosa c'è che va ti faccio un esempio un esempio che ho parlato moltissimo quando il video che dovevo uscire ad aprile dell'anno scorso invece è ritardato tantissimo uno dei motivi è stato che un gigantesco sponsor che per motivi di lettura copione del video adesso non vuole più lavorare con la mia agenzia solo perché io ho detto a queste persone mi dispiace la cosa è molto sensibile per me è molto importante non è neanche un video parlo di politica ma non mi intendo politico non mi intendo molto è un video di pancia è importante per me scriverlo in questa maniera qua e come avrei visto mi sono veramente tenuto la larga al limite delle mie capacità dagli estremismi o comunque dal dire merde voi eppure questa compagnia qua ha smesso di di contattarci ho bruciato un ponte e mi prendo la responsabilità perché comunque dire di no a queste persone vuol dire anche buttarle in culo a dei miei colleghi e buttarle in culo a dei miei colleghi vuol dire allargando un po' il cerchio non mi sono arrivate delle risorse e magari adesso non le faccio arrivare a persone che possono continuare a dire a loro grazie a determinati sponsor a me questa qua è una cosa che mi ha dato molto fastidio anche perché queste persone qua si sono dichiarate vorrei tantissimo fare il nome ma mi ucciderebbero e farebbero pure bene meglio evitare meglio evitare le querele sì evitare le querele anche se già ne stava arrivando uno perché gli avevo dato dei fascisti però vabbè sono un po' bravo no no va bene va bene ma senza dire il nome ho detto solamente che cazzo ti faccio vabbè sono un po' scemo e queste persone qua cioè quando le settimane dopo che era successa questa cosa mi sono sentito un po' scemo e un po' male perché comunque sia ancora prima di questo video che non è neanche uscito ho già dei problemi col mio management ho già dei problemi con delle persone che addirittura non non vogliono più avere niente a che fare con me solamente perché ho detto guardate mi dispiace a me serve che esca così è davvero importante ma è importante pure se il video è sbagliato perché è veramente un invito al dialogo è un invito al dirci a vicenda cos'è che non va cosa che ho pure espresso vividamente nel video e invece era successa questa cosa qua in più da quando mi sono trasferito a Milano capirai bene che la mia vita sociale è diventata molto più esposta ed aperta a un dialogo un po' più politico e meno paesano rispetto a dove stavo prima c'è la Sicilia e questo mi ha dato l'opportunità di incontrare persone molto più aperte a questo tipo di dialogo e ho avuto senza veramente nascondere nulla delle difficoltà ma anche grazie mille ciao Marzolini grazie grazie mille poi vi ringrazio a tutti ho avuto delle difficoltà anche in intimità a dovermi a volermi mostrare per come sono ma nel senso che ho visto porte chiuse ma anche a livello emotivo e sentimentale solamente perché è sempre stato mio ma non solo dovere da umano e da persona che magari ne ama un'altra vuole bene a un'altra e ci tiene il rapporto ma anche da sì se sono discorsi importanti dobbiamo dirli c'è una certa politica di fondo quando si parla di politica anche quando non sai niente di politica è un po' come è tutto politica è tutto politica ma anche quando dici non mi piace la politica stai rappresentando un pezzo di politica che esiste che ha un suo valore e mi sono l'essere apolitico secondo me è già di per sé una mossa politica capito nella misura in cui tu questa è una cosa che magari poi ne trattiamo meglio anche dopo perché è una cosa in realtà su cui volevo anche chiedertelo l'essere apolitico ti pone nella condizione però di secondo il mio parere di metterti di girarti dall'altra parte di fronte ad un sistema che è oppressivo di natura per sua stessa natura c'è un sistema come il nostro che è profondamente intrinsecamente oppressivo nei confronti delle minoranze nei confronti intendi quello italiano anche quello italiano sì anche quello italiano io parlo in generale ma quello italiano per me è un sistema particolarmente oppressivo nei confronti di alcune categorie di persone in primis i poveri poi le persone senza cittadinanza italiana mia madre è straniera cioè ne sa qualcosa che cazzo voglia dire è un icono conosco persone che già per vedere un visto devono fare i salti mortali no ma delle cose assurde ma poi ti chiedono delle robe atroci anche all'ambasciata cioè delle cose veramente indicibili quindi quando tu ti giri dall'altra parte se tu sei apolitico stai attivamente dando spazio a quelle persone che ricoprono dei voli di oppressori a continuare a perpetrare quella politica oppressiva nei confronti di alcune categorie per quello che io non riesco a dire non ad accettare ma a dire ma cazzo sì ok va bene se è politico va bene così non credo che sia un buon modo di vivere no? perché se la nostra stessa vita è politica per interezza bisogna necessariamente arrivare ad una conclusione che purtroppo bisogna in certi casi prendere delle posizioni perché altrimenti si rischia di essere ignavi soprattutto se ti lamenti secondo me sì perché poi alla fine esatto perché poi magari ti lamenti di qualcosa per la quale tu non hai neanche dato la tua voce affinché il sistema cambiasse infatti infatti e su questo ti volevo chiedere su perdonami intanto hai capito quello che intendevo sui cecchini che tra parentesi è anche perché come l'ho mostrata io sono conscio del fatto che non aveva magari quasi niente a che vedere anche visivamente con quello che ti ho spiegato adesso ma credo che sia una veramente una paura condivisa per quanto infondata e secondo me per dargli un fondamento e per parlarne bisogna appunto parlarne perché sono sicuro che è facilissimo standosi zitti e dicendo a profusione non si può dire niente è facilissimo continuare a non dire nulla però lamentandosi di questa cosa ed è veramente in linea con il discorso che fa tutto ovvero ti lamenti politica ti cagli il cazzo di questa cosa pensi che la tua vita potrebbe ottenere un tenore di vita migliore se se ne parla allora parlane e fanculo la paura anche perché ma proprio buttandola sulla favola ma cerca di combatterla cerca di fare qualcosa perché effettivamente dei cecchini non esistono se non nel nostro cervello per delle cose che magari abbiamo vissuto soggettivamente ed è effettivamente quello che ti ho raccontato io e poi hai detto a un certo punto io sembro uno che ti sta a fare l'intervista però io devo capire no no ma figuriamoci devi capire questo caso di cose perché se non capisco non riesco a ma fai bene ma certo a formare il pensiero perché se no non gliela faccio bello che hai fatto gli appunti grazie bello bellissimo è per forza no fai bene 30 minuti di video che parla no no scorrono perfettamente solo che non ho detto no aspetta aspetta qua devo scrivere qualcosa non ce la posso fare allora a un certo punto sempre nel discorso che non si può più dire nulla tu hai fatto vedere billboard davis chapelle gli uck no ora io voglio capire tu le hai fatti vedere perché le hai fatti vedere perché tu pensi che ci sia un che loro siano effettivamente dei lamentosi piagnocoloni del cazzo che dicono pure pure ok perché no chiedo perché c'è uno come davis chapelle che rompe il cazzo dalla mattina alla sera che c'ha quattro speciali su netflix ma dov'è che ti stanno censurando pure no no ma non so tu l'hai visto l'ultimo di rick gervais ah si che si mette in croce là quello no forse super natural io parlo di armageddon ok no non ho visto allora allora certo è bello il fatto che sicuramente il cliente corretto ha cambiato determinati modi di comunicare ma se io sento per da cinque anni i trans non mi fanno parlare abbiamo paura delle parole e poi questa persona sul palco può dire sempre il cazzo che vuole inizia veramente a non far neanche più ridere perché comunque c'è un determinato ma io penso che il black humor si basi anche sul sul ridere di qualcosa oh mio dio ma hai detto prima ma come si permette questa persona a dirlo quindi questo scandalo un po' questo raccapricciante sensazione che comunque ci fa vivere qualcosa di viscerale dentro ma questo stronzo che io ho apprezzato ma soprattutto le sue opere anche seriali come The Office che ho guardato mentre facevo il video dello stupro molti anni fa cioè delle quattro anni fa continua impertelio a dire queste cose qui eh non posso parlare abbiamo paura delle parole e tutti ridono però in questo show non hanno riso così tante persone perché secondo me si stanno un po' tutti accorgendo del fatto ok ma se hai fatto tre speciali e in tutti i tre speciali hai detto sti trans che palle e comunque se non ti è mai successo nulla non solo te la meni sempre che sei milionario eccetera lo fa per scherzare non vuole tirarsela Anna Manna grazie del raid un bacione e perdonami di quei cazzo di fraintendimenti che non è colpa mia è colpa tua solo gli scemotti che vogliono metterci a combattere comunque le ho messi per questo perché sono la prova esistenziale queste persone che veramente si può dire tutto quanto e mi dispiace purtroppo aver messo anche Louis CK nel centro perché nonostante io lo reputi ormai che si è fatto la nomine via come comico nel senso che fa ridere solo perché ha già fatto ridere per tanto tempo però lui almeno si approccia anche a determinati argomenti come questo qua dei trans di cui parla in continuazione delle persone trans però in continuazione Ricky Gervais in maniera molto più slice of life molto più geniale da quel punto di vista nel senso se deve attaccarli lo fa sempre attaccando anche la sua posizione e poi lo fa in modo giocoso e questa è un po' comicità andare a fare uno speciale dicendo uffa inizia a diventare sentiamo il prossimo vlog politico di Ricky Gervais e non più una comicità soprattutto quando lui finisce ogni show dicendo la comicità serve a esorcizzare le tristezze della vita frase a cui sono totalmente sono totalmente d'accordo e sono anche molto legato però non è più quello che stai portando avanti ti consiglio veramente di vederlo l'ultimo show perché rappresenta un po' il motivo per cui ho messo queste persone là in mezzo Armageddon Armageddon su Netflix io penso questo penso che persone come i comici come tu stesso hai elencato nel video allora qual è il problema mio con questo tipo di comicità qui per me una comicità che ha un sapore satirico cioè una satira deve puntare verso l'alto se tu punti verso il basso se tu colpisci chi sta più in basso ad esempio le persone transgender per me quella non è satira per me quello è bullismo ma non perché non si possa dire nulla ma se tu veramente vuoi mettere in discussione una società che è profondamente sbagliata come quella nostra che è profondamente omofoba come quella nostra che è profondamente misogina come quella nostra che è profondamente transfobica perché diciamoci la vita le persone transgender sono probabilmente la categoria più oppressa attualmente probabilmente cioè gente che veramente vorrebbe evitare la loro stessa esistenza in alcuni stati americani hanno addirittura messo il divieto per le cure ormonali tirando in ballo la scusa che sono minorenni e non possono avere il diritto di poter decidere sì però poi dopo di che gli vendi l'arma a Sericiani gli vendi l'M4 carico a pallettoni una comicità di quel tipo per me non è più black humor ma è una macchietta di se stessa che prende un argomento che fa ridere tutti quanti perché le persone transgender sono diventate un po' secondo me il fenomeno da baraccone anche dell'internet è facile andare da una persona da una persona transgender a dire senti ma te lo sei tagliato cioè cose di questo tipo qui cose che non fanno ridere cose che sono soltanto offensive e basta per me loro falliscono proprio alla base su quella base lì posto il fatto che io l'UCK ho visto alcuni spettacoli l'ho visto ed è uno dei comici migliori mai ma lui è veramente uno di quelli che meno si approccia da quel punto di vista a modi bullismo perché io penso che questi comici qua a me piace sentir far comicità cioè far comicità su le persone trans finché non mi piace più che sembra una frase logica ma illogica ma il fatto è questo che il bello fra molte virgolette perché potrebbe veramente facilmente finire sul bullismo del criticare una minoranza è che veramente non può farci un cazzo becca di questo ah non potete fare nulla quindi sì è veramente un po' di bullismo ma è un po' quello che a mio parere le persone devono aspettarsi dai comici e nel senso tra dei beccare se ce la siano beccati tutti tra dei beccare pure tu quando è che diventa a mio parere nocivo se non noioso che lo reputo anche in un certo senso anche peggio perché comunque stai facendo comicità non stai non sei la persona che deve decidere politicamente cosa succederà ma quando tu prendendo in considerazione ad esempio Ricky Gervais sei la persona che su twitter parla solo di questo sei la persona che nei suoi vlog parla solo di questo e adesso pure i tuoi show sono diventati per la maggior parte delle battute sulle persone trans solo questo e allora allora è strano scudarsi con la scusa della comicità perché inizia veramente ad essere una scusa perché io penso ci sia davvero un fondamento di bullismo come lo chiami tu in ogni tipo di comicità nel senso avete presente questa realtà che scemi ok ma dovrebbe finire lì mentre invece sta continuando sta continuando tanto ed è questo è stato anche il motivo volendo tornare al mio video per cui iniziai a mostrare tutte le varie categorie di persone con cui l'internet che si lamenta del politicamente corretto se la sta ultra prendendo ovvero i transabili che comunque sono quelle storie che ho mostrato sono di molti anni fa se non quella del tizio che si è iniettato l'alcol per tagliarsi la gamba i trans i transpecie che sono sempre più in America popolari però dando comunque una specie di messaggio di ragazzi cioè quindi cioè al di là del di alcuni terribili messaggi che ad esempio i transabili mandano tipo la tizia che si è ne avevo parlato anche nella scorsa la tizia che si era ciecata da sola lei ha fatto una stranissima e secondo me anche ridicola intervista da dottor Phil non mi ricordo quando comunque abbastanza recente e questa persona qua cioè quello che purtroppo adesso che forse è la cosa che più detesto del praticamente corretto se vogliamo chiamarlo come movimento comunque moda di questo momento storico è che certo vive rispetto e certo vive l'educazione fra di noi ma cazzo a volte è così alta l'educazione e il rispetto che dobbiamo tenere verso il prossimo che è anche qualcosa di totalmente autodistruttivo come ha fatto questa persona soprattutto quando vai a leggere la sua storia quindi sempre stata un po' obesa quindi a scuola smerdavano tutti genitori che se ne sono sempre fottuti cioè vive il cazzo che si è messa due gocce di varichina negli occhi per distruggersi ma trattarla come una cosa che abbia anche una valenza medica per due ore di trasmissione in America ma vive il cazzo che poi certa gente che recrimina il politicamente corretto inizia a vedere quelli che tu chiamavi i cecchini di persecuzione perché è questo quello cioè abbiamo perso l'abilità di dire ma che cazzo sta facendo questa stupida testa di cazzo perché una volta che lo dici soprattutto su internet dove è tutto ultrapolarizzato bianco o nero è facilissimo che qualcuno ti risponda ah ah hai detto testa di cazzo hai perso la discussione ma come l'ho perso ma fisicamente già l'ha persa lei togliendosi un senso ma dobbiamo veramente parlare di questo? io penso questo allora per quanto riguarda le persone transabili le transfece questa è una critica che in realtà ti faccio quindi non cioè senza nessun tipo di offesa ma figurati per me questa roba qua è cherry picking per quanto mi riguarda nel senso quando noi parliamo di politicamente corretto tu stesso nel video hai ammesso che il politicamente corretto serve per quale motivo? perché c'è altrimenti se non ci fosse una sorta di controllo su quello che noi diciamo anche di autocontrollo di quello che diciamo ci sarebbe l'anarchia sia a livello comunicativo e a livello di aggressione nei confronti di categorie che sono già oppresse qui tu in realtà cioè siamo più te la pongo in maniera guerresca siamo più o meno dalla stessa parte no ma cherry picking che per chi non sa per chi ha la mia età online vuol dire prendere un argomento non così tanto conosciuto o rilevante e farne un intero discorso un po' qualunquista comunque che si che un po' esente dal fatto che effettivamente sono pochi casi no l'ho fatto in realtà per il al contrario nel senso pensate che questo sia così assurdo che sta succedendo nei trans pensiamo un attimo se venissero normalizzate queste cose qua ma poi la mia narrativa è diventata però che bello che c'è così tanta roba infatti ho fatto la scenetta della festa e quella cosa là purtroppo è una delle cose che a me non mi hanno citato nel senso io ho voluto raccontare nel video che al di là delle cose che possono sembrare sempre più abberranti e strane per chi non è soprattutto stato mai esposto a questi argomenti o banalmente non ha mai fatto un discorso come quello che stiamo facendo noi minchia si trova veramente estranito a dire cosa ti sei tagliato il cazzo ma perché che sei scema e ora come pisci perché ci vuole comunque tanta esperienza e l'esperienza proviene dalla singola e banalissima accettazione del fatto che è veramente bello che il mondo è così vario oppure quando quelle cose che non ti piacciono non ti piacciono e spesso non ti piacciono perché non le conosci quindi era una specie di sì cherry picking ma veramente al contrario cioè volevo dire ragazzi pensate che questa cosa di trans sia la vera battaglia guardiamo un attimo invece queste persone qua che stanno a volte perversi veramente oggettivi messi peggio dal punto di vista di quello che stanno facendo anche la propria persona per divulgare il proprio messaggio e sono e queste hanno veramente un livello di normalizzazione veramente nocivo però che cazzo facciamo le dobbiamo blindare dentro il nostro la nostra gabbia di odio no conosciamole il mondo è veramente bello perché è vario parliamone avviciniamoci a queste persone per capirci a vicenda molte delle cose ad esempio che Max Walsh io mentre montavo il video stavo morendo di depressione perché veramente ero entrato in uno stato emotivo in cui non ero d'accordo con nessuno perché tu potrai anche essere d'accordo con quelle cose che magari Max dice o Jordan Peterson dice o quelli comunque della loro lega ma il modo del cazzo con la quale a volte si dipingono anche la faccia cioè Max Walsh ha un format di lui che reagisce alle comedian donna e il video finisce quando lui si mette a ridere lui sta sempre così ma faccia di merda ma anch'io posso vedere dieci video divertenti e far finta che non me ne fa ridere nemmeno uno ma cosa vuoi comunicare a chi effettivamente va contro il la benda in bocca sullo zittimento sull'immobilismo cosa vuoi dire a queste persone perché sembra quasi che vuoi dare il via libera per continuare a fare quello che avevi detto tu prima ovvero incazzarsi sulle minoranze solo perché sono minoranze e renderlo pure politico e secondo me l'obiettivo è esattamente quello cioè il Matt Walsh che fa queste cose qua lo fa apposta perché vuole continuare a fare una campagna anzitutto lui ha sempre fatto campagna conservatrice ma cose di questo tipo qua sono indice del fatto che la sua campagna comprende anche la misoginia in maniera spropositata perché quante volte noi sentiamo dire vabbè ma le donne in realtà sono divertenti ma le donne mi fanno ride a parte il fatto che parli come se veramente avessi mai conosciuto una donna in vita tua prima cosa ma poi perdonate sta piccola peccatina al maschio basic del cazzo al maschio beta al maschio sia ma per me guarda non beta perché secondo me non credo nella suddivisione lupesca anche se alcuni figli di buttano non hanno mai trombato dici tu capito a me mi fanno morire perché io non posso sentire ciccio pasticcio 99 no però effettivamente le donne non sanno guidare frate se odi tu madre e hai un rapporto brutto con lei non te la fia con tutte le donne poi a volte la cosa brutta secondo me è che magari non è neanche quello vero cioè che internet è diventato anche una facile risposta a quelli che possono essere problemi che magari non dipendono neanche da quella che è stata la tua vita ti faccio un esempio e io spesso me la prendo con gli obesi e i ciccioni dico che brutti che sei tipo alla mia community e molte volte arrivano persone che non capiscono lo scherno nonostante basato su delle verità che a volte espongo senza problemi perché io so la difficoltà ad esempio di avere un certo peso non solo mediatico ragazzi avete capito e mi dicono cazzo ma se tu hai avuto problemi col cibo non è che adesso devi prendertela ma no ma no non è solo così non è sempre solo così e secondo me bro quello che hai detto adesso potrebbe a mio parere se detto da un punto di vista mediatico online rappresentare un problema nel senso che quando un coglione adesso andiamo a parlare di Giulia perché è interessante il discorso visto che tu l'hai affrontato molto su TikTok se un coglione che effettivamente non ha mai avuto la possibilità di qualsiasi cosa in ambito femminile quindi allargare il proprio cerchio sessuale la sua cerchia emotiva con 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 risposto a ragazze proprio frequentandole al di là del voglio scoparci cioè questa persona è veramente messa ancora male mentalmente nel senso che deve ancora crescere e secondo me rispondergli come potrebbe essere anche legittimo perché magari ci azzecchi il mio professore diceva lancia una pietra in una folla quello che becchi probabilmente se l'è meritato però quando gli rispondi in una maniera così particolare anche psicoanalitica cazzo ma che problemi hai avuto con tua madre io penso che uno zombie che non ha mai conosciuto la figa e quindi che non ha idea effettivamente di quello che sta andando a dire minchia ti spaventa tanto potrebbe veramente facilmente considerarti come uno che non solo non avrà non gli darà mai non avrà mai il diritto dell'ignorante dato dall'ignorante di educarlo ma anche di capire di che cazzo stai parlando anche perché anche perché stiamo un po' recriminati anch'io sempre dico minchia ragazzi quanto è facile dire ah le donne che è facile con gli fans spaccare i culi su twitch amico mio ma ti invito a vivere una vita dove sei nuda per vivere e vediamo come stai mentalmente e vediamo se poi non hai la capacità di chiamarlo un gran rompimento di culo tutto qua quello che secondo me è importante è il fatto di diciamo mettere in prospettiva secondo me un po' questo discorso qui perché noi cioè gente come me ad esempio reagisce in questa maniera qua come ho reagito in questo momento come ho definito questo maschietto super legittimo non è neanche troppo responsabilità tua educare gli altri quindi va bene anche così esattamente cioè il senso è che da un certo punto di vista tu puoi provare qualunque tipo di comunicazione qualunque tipo puoi provare a essere assertivo puoi provare a essere a tendere la mano puoi provare a fare quello provocatorio puoi provare a fare un piccolo avrai purtroppo nel 99% dei casi e questa cosa qui diciamo ne parlo anche dal mio punto di vista di un creator su tiktok che parla di argomenti come il femminismo il socialismo e tutte queste cose qua non c'è tanto margine di dialogo con queste persone perché già preventivamente si mette un muro e quindi allora lei la difficoltà qual è cercare di trovare gioco con lui un piccolo cecchino perché il punto è che come cazzo fai allora o scavalchi il muro oppure gli fai una breccia a sto muro qui secondo me secondo me non ha mai funzionato non ha quasi mai funzionato il mettersi lì e cercare di insegnare ad un ragazzo che non vuole imparare insegnare ad una persona che non vuole un uomo anche di 50 anni che purtroppo anche per una questione culturale non ha intenzione di mettere in discussione le proprie le proprie convinzioni sulle donne sulle minoranze etniche sulle minoranze religiose su sulle persone LGBTQ e allora io dico da un certo a un certo punto le persone come fra virgolette noi si rompono il cazzo e ti dico vabbè tanto comunque non mi ascolti tanto comunque non ci ascoltate allora sapete che c'è vi metto in ridicolo e vi venuto di fronte alla folla perché usare un un atteggiamento delegittimato nei confronti di persone che attivamente cioè hanno paura di uscire di casa perché hanno paura di essere aggrediti in quanto omosessuali o di essere uccisi in un vicolo perché boh indossano una minigonna è completamente diverso rispetto alla paura che ha un ragazzino su internet di venire tacciato perché ti dico che non trombi cioè non si può mettere sullo stesso piano capito per quanto mi riguarda non si può mettere sullo stesso piano ma c'è gente che lo fa che fa cose c'è gente che mette sullo stesso piano queste due cose secondo me il discorso che tu hai fatto all'interno del video su questo è un altro punto su cui volevo parlare a un certo punto tu dici tutti vogliono morti tutti sì secondo me non è esattamente così cioè nel senso secondo me lì hai fatto un errore ripeto non è una critica personale è una critica al continuo ma che cazzo smetti di dire questa cosa ma certo ma certo perché voglio proprio capire e voglio capirti più che altro certo aver messo in quel momento lì quello che è arrivato perlomeno a me è aver messo sullo stesso piano persone che attivamente vorrebbero vedere morte delle categorie di persone comunque che vorrebbero delegittimare la loro stessa esistenza o che comunque non vorrebbero fare nient'altro che continuare a opprimere quelle persone facendo battute a sfondo omofobo o trasfobico quello che ti pare o anche facendo semplicemente dei commenti se stessi sul luogo di lavoro che cazzo ne so con persone che dicono vabbè io mi sono proprio rotto il cazzo di subire cioè vaffanculo mi sono rotto i coglioni di subire cioè io Gwendalina dei 35 anni mi sono rotto il cazzo di andare al lavoro e il collega del lavoro mi fa un commento sul culo vado su internet e mi dicono che sono una puttana e vado da mi marito e mi dice che non mi posso mettere sta conna qua vabbè sai e comincio a reagire con una rabbia che è completamente diversa dalla rabbia ho capito ho capito ho capito l'oppresso per quanto mi riguarda non può minimamente essere messo sullo stesso piano delle responsabilità non ha la stessa responsabilità di un nazista che ti dice che tu devi morire perché sei nero certo certo allora capito certo uno dei motivi per cui utilizzai le emoji in quel momento là era perché veramente volevo fare un grande mischione senza parlare di enormi estremismi come questo qua che ho usato adesso ma ho anche una certa paura addosso che è quella che diventi un po' un mercato di chi ha più sofferenza può acquistare più legittimazione di parlare di quello che cazzo gli è successo e a mio parere internet da quel punto di vista non riesco a non mettere nello stesso piano queste persone qua nonostante alcune abbiano ovviamente sofferto di più ed è un punto che poi ho ripreso alla fine del video nel senso cazzo io a un certo punto ho parlato del mio privilegio in Sicilia e molta gente l'ha vista come che fai piangi sì sì ma perché no se è quello che sento se è quello che sento mi sa che lo farò e non solo mi verrà un po' difficile trattenere le lacrime quando qualcuno mi dirà che fai piangi nel senso è veramente il modo per farmi piangere al di là di quello che può essere soprattutto durante il pianto e durante la sofferenza che è qualcosa di davvero intimo è una cazzo di preghierina cercare di capire cazzo ma questa persona che mi sta dicendo che non dovrei mettere allo stesso piano le sofferenze o addirittura non piangere perché è super di moda questa dinamica di dire che fai maschio piangi a volte a volte sì a volte piango e alcune ragazze mi dicono che carino che sei che lo stai facendo semmai sono cretini quelli che non lo fanno perché pensano che sia una perdita di mascolinità mio padre mi diceva gli uomini non piangono e non sentono freddo porco dio vabbè ma anch'io c'ho papà calabrese vabbè quindi ci capiamo e quindi quel momento là quando dissi tutti vogliono morti tutti effettivamente come dici tu volevo un po' mettere tutti nello stesso piano ma da questo punto di vista ovvero quello che a volte quando soffri è veramente non dipende quando soffri è difficile pensare al ma dovrei davvero cioè ovviamente il confronto che ha cognato grazie Itorak anch'io anch'io mi piace sempre parlare ovviamente ogni persona che deve meritarsi il titolo di persona di umano di essere intelligente e soprattutto la persona che ammette che è afflitta da questo privilegio o anche avvantaggiata dopo il senno di poi dopo la sofferenza c'è veramente bisogno di prendere atto di quello che è successo incluso il pianto e fare del bene ma lo vedo veramente come un enorme freno quello del maschietto che si lamenta di qualcosa perché è uno scemo di merda però anche gli scemi di merda piangono se non di più a volte perché non sanno come cazzo reagire e non possono fra l'altro dire no guarda non ce la faccio più e andare da queste persone e dire merda ma vuoi veramente piangere tu che c'è gente che deve piangere molto di più merda sì e una volta che finisco visto che il pianisteo si spera non durerà per sempre ne parliamo ti voglio fare un esempio che tu hai portato sul tuo nei tuoi tiktok ovvero quello dei ragazzi che dicevano aspetta not all men ne abbiamo parlato anche moltissimo qua in live certo certo non ci piove che sicuramente la maggior parte di queste persone provengono da un luogo di ma che ne so mascolinità affrontata sfidata togliere qualcosa che per loro è sempre stato un'abitudine che adesso sarà tolta e quindi si incazzano certo ma lo stesso Filippo che ha ucciso Giulia se ti vai a guardare la sua storia è stata una persona che ha sempre avuto tutto dalla vita super viziato appena gli viene tolto l'amore da questa buttana la buttana muore porco dio cioè terrificante proviene quindi anche se non dobbiamo dare tutte le colpe al patriarcato c'è effettivamente una verità di fondo tremenda che proviene dalle persone che hanno scopato per crearci quindi se non facciamo noi la stessa cosa ammazziamo chi ce lo vieta legittimamente comunque è un grande diritto di di azione di pensiero Giulia Docet ma ho paura che uso queste parole ma non voglio provocare in nessun modo utilizzando questo mercato di emozioni ovvero quale vale di più la tua perché hai sofferto di più ergo hai più hai più motivo di piangere ho paura che le persone che piangono non perché effettivamente stanno soffrendo di una realtà ma di una ignoranza e di qualcosa che devono imparare ho paura che vedendosi gente dire che fai piangi ti è successo qualcosa non solo gli è successo qualcosa che non è in suo potere che ne so è nato in una famiglia del cazzo che gli diceva se senti freddo non sei maschio come ad esempio è successo a me ma adesso che ha un po' più di potere nella sua vita perché è adulto e al di là dei piannistei legittimi o non legittimi che fa ha un potere sulla sua vita si vede persone che si mettono l'educazione in bocca che magari non vogliono fare comicità non vogliono fare i caceroni ma che hanno veramente a cuore e nel cervello la missione del migliorare le cose di dare un messaggio positivo per abbandonare questo mondo meglio di come l'hanno trovato quando l'hanno trovato come diceva Bob Burnham su Inside ho paura che vedendosi questo atteggiamento ma si blocchino cioè veramente e io capisco benissimo quella che è la tua il tuo dramma che io condivido tantissimo quando faccio i miei video penso ma come cazzo c'è da approcciarsi a queste persone soprattutto quelle che hanno deciso che già a vent'anni non matureranno mai più che hanno scelto proprio di vivere questa vecchiaia questi sono i miei ideali non cambieranno mai più io non credo molto al cambiare mai più però riesco a capire la frustrazione della vercela non con la vercela ma col cercare di comunicare con persone che già a vent'anni dicono io non voglio comunicazione ma certo che la vuoi deficiente ma qualcosa mi dice che negargliela è un po' sbanderare infatti il fatto che gliela stai negando quando proprio piangono e quando stanno soffrendo possa essere un po' scontroso se vuoi cambiare le cose io penso che in realtà allora su questo mi trovo in disaccordo per due motivi essenziali il primo è che non si sta ridicolizzando una persona che piagnucola perché lo vediamo maschio etero è basic maschio eterosessuale come sono io e bianco a me nessuno mi ha mai ridicolizzato perché chiedo semplicemente di avere di essere ascoltato in delle mie istanze di dolore quello che si fa è noi quello che vediamo sono persone come ad esempio me io sono maschio eterosessuale e bianco e sono oggettivamente parlando più privilegiato rispetto ad un maschio bianco ma omosessuale così come il maschio eterosessuale bianco ricco è più privilegiato di me quindi è una scala di privilegi ed è una scala di oppressioni quando noi vediamo una persona come me ad esempio con il mio aspetto con il mio background e con il mio appunto privilegio sentirci dire sentir dire ad una persona che ha subito una violenza o che ha subito una discriminazione vabbè però in fondo alla fine non è così grave come tu mi stai raccontando non è così grave alla fine la discriminazione come mi stai raccontando che vuoi che sia qualche commento sessista sul luogo del lavoro che vuoi che sia qualche toccata di culo a scuola non fa alla finita guarda che io che so uomo io ho molti più problemi cioè noi critichiamo quel tipo di atteggiamento lì quel mettersi al centro e puntare i riflettori su se stessi dicendo guardate che fermi tutti fermi tutti sono io il vero oppresso in questo momento la seconda tipologia di persone che noi critichiamo è quando facciamo quando andiamo ad attaccarle anche a Dominem lo facciamo perché non c'è possibilità proprio di comunicazione sono quelle persone lì che attivamente tentano di far passare la loro sofferenza come una sofferenza che è completamente indipendente da quella che è la radice del problema che noi abbiamo esposto da non so 120 anni cioè quando noi parliamo di patriarcato e parliamo di misoginia interiore e parliamo di tutte queste cose qua e tu mi dici eh ma gli uomini si suicidano di più io ti dico sì l'hai capito cioè è quello è quello cioè se tu non riesci finisco una cosa se tu non riesci a ascoltarmi anche in quel caso lì quando io ti sto dando letteralmente una chiave di lettura non la soluzione perché la soluzione la devi trovare a te ma ti do una chiave di lettura della realtà e tu neanche quella ma accetti io non posso fare nient'altro sai perché però non puoi non l'accetto e tu purtroppo ti ritrovi in un modo dove non puoi fare nient'altro perché è una vera sofferenza cioè loro il riflettore come lo chiami tu veramente lo vogliano ma non perché si stanno inventando una cazzata ma perché sta gente soffre per davvero ed è una sofferenza come dici tu che impallidisce al confronto di tante altre ma lo è comunque sia non dico però che la loro sofferenza non è attenzione non dico che la loro sofferenza non sia legittima ok non è legittimo l'uso strumentale che se ne fa cioè se io capito è questo il fatto è questo il fatto che loro se hanno quella sofferenza cioè è facile capire che se loro hanno quella sofferenza e stanno piangendo per determinati motivi che dall'alto del nostro vedere le cose in maniera un po' più globalizzata un po' più ok magari abbiamo letto due libri in più quindi sappiamo che ci sono cose veramente tremende per il quale piangere davvero al di là di come stanno strumentalizzando questa cosa comunque sta succedendo nella loro vita e ripeto comportarsi in maniera tipo che fai piangi a me me l'hanno detto ma non solo online anche in intimità che cazzo fai piangi tu sai però che cos'è che scatta in quel momento lì cioè se io ti racconto ad esempio vengo da te e ti dico come guarda Marco cazzo mi hanno violentato l'altra sera è successa una cosa mi hanno violentato e la tua risposta è vabbè ma io che centro cioè lì come reagisci cioè dici mi stai a piappere il culo perché numero uno non ti ho detto che sei te il colpevole prima cosa seconda cosa che cazzo c'entri te cioè quando noi io dico sempre noi perché è brutto fare tipo le fazioni no è per parlare non lo capisco perché non riesco a dire se no tranquillo quando persone come noi vedono queste persone qua quello che leggono e quello che vedono sono persone che vogliono soltanto delegittimare quelle che sono delle istanze reali di oppressione di persone che sono anni che chiedono di essere ascoltate cioè se tu veni da me e mi dici guarda però io soffro più io soffro in realtà quanto te quindi la tua sofferenza non vale la tua sofferenza di omosessuale non può valere proprio perché io soffro quanto te quindi eccoti vedi siccome io soffro quanto te allora tu omosessuale non puoi dire di essere una vita della mia allora lì ti dico vaffanculo qualcosa mi dice che se ti comporti in certi modi con queste persone questa dinamica continuerà a esistere per sempre cioè se io ironicamente se io sono uno stupratore e quindi il peggio quindi l'estremo finale e sento persone che combattono dando cioè perdendo dico perdendo tempo perché effettivamente secondo me nel giornalismo italiano verso Giulia ma anche verso sua sorella porco dio sono state dette cose assurde se si impiega ecco se si impiega tempo a parlare di determinate cose io la prossima persona che stupro ci godo cento volte di più nel senso è molto facile da persona che come detto tu al di là degli stupratori che ho utilizzato comicamente la roba più assurda è molto facile per chi sta negando il diritto altrui sia che stai venendo da un luogo di ignoranza sia perché consciamente lo stai facendo perché merda vogliono togliermi il mio privilegio o no se vieni a contatto con delle persone che anche giustificatamente si comportano in un certo modo con te svilendo quella che è il tuo modo di svilire mi sa che sta cosa continuerà ancora per un bel po' ed essendo che io nel video anche in maniera un po' confusa un po' prolissa cercavo soluzioni a volte mi rinchiudevo nel merda non ce la faccio ma mi sa che ce la faccio a determinare quelle che non lo sono soluzioni e qualcosa mi dice che continuare a letteralmente deridere queste persone a volte potrebbe risultare in queste persone che continuano a dire no 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 per favore riflettore su di me perché certo questa tizia qua è stata uccisa però sai che nel mondo muoiono più uomini ma e allora sai che cos'è che io non però però voglio scusami poi veramente però è un mio dubbio però ti giuro che è una cosa che vivo ogni singolo video che scrivo ma pure se parlo di pantofole è una cosa che ancora in me è viva non sono convinto quasi mai quando ne parlo ma è quello che sento ed è quello che ho sentito quando ad esempio è stato detto a me in intimità tipo che fai i piangi cazzo perché non posso non dovrei e quindi veramente ci combatto ogni volta perciò sì dimmila tua io penso questo penso che diciamo il problema qual è il problema è che non riesco a far parte di questa scuola di pensiero del potrebbe esserci un modo alternativo semplicemente perché le cose stanno continuando ad essere come sono da anni cioè nel senso le più grandi conquiste questa esce fuori un po' il lato me un po' come posso dire un po' brigatista tra virgolette un po' con i capelli lunghi perché però non ti vuoi colorare esattamente esattamente bravo mi piaceva molto questa citazione per chi non lo sapesse è una citazione al forno no no va bene e niente che succede io penso che la stragrande maggioranza di quelle che sono le conquiste che noi abbiamo da un punto di vista dei diritti civili da un punto di vista del riconoscimento dei diritti di una minoranza compreso anche ad esempio i diritti delle persone afroamericane derivano dalla precisa consapevolezza del fatto che purtroppo con le buone parole con i fiorellini si è conquistato poco perché dall'altra parte ci sono persone puntate con i fucili cioè se tu combatti con i fiori quando c'è una persona che ti vuole attivamente togliere la vita letteralmente parlando mi sa che muori mi sa che muori ora io posso anche capire la lotta la lotta alla Gandhi lo posso anche concepire come filosofia di vita ma però dobbiamo guardare un po' in faccia alla realtà da una parte abbiamo persone che non fanno niente altro che tutto quanto il giorno che delegittimare altre categorie di persone che per loro alcuni diciamo alcuni alcuni di questi oppressori neanche vorrebbero vedere in vita potenzialmente e il più lontano possibile da quella che è la vita politica da quella che è la vita sociale da quelle che sono proprio la vita quotidiana del loro quotidiano persone che attivamente scrivono su internet roba abberrante come ad esempio spero che ti stuprino come ad esempio a Elena Cecchettin io voglio che faccia la fine della sorella come ad esempio l'altro qualche settimana fa un mio amico omosessuale chiamando chiamandoci su internet ragazzi stanno quattro stronzi sul tram che mi stanno urlando fro 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 non so che cazzo fare ho paura della mia vita cioè ho paura della mia incolumità quando tu hai attivamente quel tipo di categoria lì che vuole proprio toglierti la vita nel più estremo dei casi nel migliore dei casi vuole soltanto metterti a tacere tu c'hai pochi margini di movimento cioè tu sei messo all'angolo tu sei messo all'angolo e quando tu sei messo all'angolo cosa cazzo puoi fare cosa ti aspetti che faccia sta gente qua se tu vieni messo all'angolo mordi purtroppo non c'è nessun tipo di risoluzione in questo senso qui se non purtroppo il prendersi un po' di spazio perché è un po' di spazio quello che si sta chiedendo per avere per avere un un minimo di di riconoscimento dei propri diritti e questo e per quando quando noi parliamo del anche tu nel video hai parlato di una cosa importante tu hai detto io non devo corragimi se sbaglio perché tu probabilmente ti ricordi meglio di me non devo portarti rispetto a prioristicamente o comunque non devo trattarti bene come era la cosa io non darò mai rispetto a qualcuno solamente perché qualcuno ok allora questo punto qui è importante perché secondo me non si è capito bene un concetto fondamentale io non sto chiedendo rispetto del tipo reverenziale cioè non ti sto chiedendo di rispettare me in quanto sono una persona che merita benevolenza da te o merita buoni sentimenti da te io merito di essere trattato come un normalissimo essere umano cioè io questo da te voglio cioè se tu mi incontri e la prima cosa che tu fai è trattarmi come se non appartenessi neanche alla tua stessa specie o allo stesso pianeta dove siamo nati allora lì c'è uno squilibrio di potere perché io sto attivamente discriminando te prima ancora di entrare in confidenza con te io ho tutto il diritto di essere trattato come un normalissimo essere umano perché la mia vita non può essere messa al repentaglio cioè te che hai un pensiero oppressivo nei miei confronti e questa è una critica che ti voglio cioè te la faccio perché ho preso anche appunto qua scusa ho 27.000 righe scritte no 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 anzi apprezzo e quando tu dici cioè a un certo punto parlando sempre del piagnocolio no cioè tu hai messo nel video hai secondo me ridicolizzato molto tutte quelle persone che sono che attivamente chiedono di essere rispettate in quanto tali facendole rappresentate un po' come dei bamboccioni che stanno piagnocolando sì io non credo che questa ridicolizzazione possa avere tanto spazio nel senso per lo stesso identico principio che tu hai usato adesso con me quanto ridicolizzare questi stronzi maschietti de merda ah no no certo certo però aspetta facciamo una grande distinzione io le persone di cui parlavo perché il punto in cui ho parlato di queste persone è stato quello del rispetto e come hai detto tu prendendo la tua frase che secondo me è giusta non non devi opprimermi a volte è difficile comportarsi con i fiorellini quando ti puntano un mitra quindi il problema è letteralmente ok non rispetto una persona quando solamente perché è umana però c'è una pretesa di educazione minima che l'un l'altro dobbiamo avere ci mancherebbe il fatto è che a volte come a volte succede anche alle persone oppresse come questo tuo amico che è successo a questa cosa qua un po' del cazzo a volte succede che incontri una persona che non è neanche minimamente umana nei modi di porsi ma anche a primo acchietto cioè ma chi li conosce sti facce di merda ok quindi le persone di cui parlavo non erano né una né l'altra ma le persone che un po' di cui stavo parlando prima ovvero che piagnucolano e piagnucolare è una cosa che succede ma perché le ho prese in giro perché le ho reputate ho detto bugiarde arroganti e piagnucolose perché comunque sia mentre piangono se la prendono di un pianto altrui ed è proprio come stavamo dicendo prima nel senso che ci sono effettivamente delle persone che piangono a volte per noi non sappiamo effettivamente perché le persone piangono perché le persone soffrono però sappiamo che soffrono perché a meno che tu sei solamente un coglione che vuole rompere i coglioni comunque la gente sta soffrendo e se se devo dare il dubbio se devo dare il beneficio del dubbio a tutte le persone che stanno piangendo dicendo in realtà vuole prendermi in giro veramente mi chiudo a casa non esco più divento pazzo perciò la gente soffre ma c'è gente che non solo soffre per robe effettivamente importanti ma che continua a recriminare il pianto degli altri dicendo eh ma tu non hai sofferto come ho sofferto io non hai sofferto nei topic dove ho sofferto io che cazzo piangi a fare quindi diventa una specie di strano uroboro cioè piangono del fatto che la gente piange ed è una strana ipocrisia e arroganza che a mio parere veramente merita scherno almeno dal almeno in un cazzo di video online perché era anche la distinzione che io volevo fare io sono assolutamente d'accordo con te sul fatto che a volte ti vieni eh vedi i fucili e che cazzo fai il gandhi ma non a livello che a volte l'etica cade a volte l'etica cade davvero cioè io posso anche avere il messaggio più fiore di loto del mondo ma se c'è uno che mi sta puntando la pistola non è più etica contro etica è una pistola contro uno che se viene sparato ha voglia che dice buoni messaggi muore quindi è solamente ragione però volevo fare la distinzione con internet nel senso che internet spesso viene visto come il posto delle onida tastiera ma a volte fortunatamente c'è la gente online ha molti meno modi di fare male o comunque diversi di fare male c'è c'è molta più psicologia di mezzo se non esclusivamente anche se poi la gente muore diventa molto psicofisico quello che ti può succedere online e succede a tutti influencer follower o anche gente che non segue un cazzo di nessuno e semplicemente entra e vede che è uno sfascio emotivo e secondo me questo è un vantaggio e a mio parere continuare a portare avanti questa narrativa a cui do il cento cento della mia approvazione del avvolte ai fucili non puoi che rispondere ma con altri fucili cioè io sono la persona che dico se uno stronzo mi arriva a casa no ma già mi immagino io che vengo chiamato eroe da mie follower lo ammazzo cioè non se qualcuno viene mi tocca anche di un poco la mia ragazza no esce il cavaliere patriarcale che lo ammazza ti basta ma con tutto il piacere del mondo mentre invece online c'è questo scudo che è un po' scemo di leone da tastiera che comunque rimane un leone da tastiera e qualcosa mi dice che con tutta la fatica del mondo ma nel senso che inizieremo ad avere i primi peli bianchi potrebbe essere in qualche modo ammaestrato ma qua ritorno a dire che è un discorso che a cui penso giornalmente e che nel senso che magari domani mi richiami e dico no guarda Alessio hai totalmente ragione tu ma mi piace veramente pensarlo come discorso attivo perché ho così tante idee e esempi che potrei dare sia per dar ragione a me ma anche per dar ragione a te che è bello complesso ma secondo me anche la bellezza di questi discorsi è che internet è diventato non è che è diventato complesso è diventato solamente pieno di persone internet non è mai in realtà veramente cambiato nei modi e nei termini però è cambiato tantissimo nella gente che lo occupa e adesso veramente devi dobbiamo prendere atto che assieme a noi che sappiamo che sentiamo su internet e diciamo brah come dici a volte tu uno stronzo dirà cringe ma c'è tanta altra gente che ci capirà perché perché abita questo posto da tanto e sa che ci sono dei codici ma c'è anche gente micchia che non sa niente che è entrata ieri e io l'altra volta parlavo con i miei amici qua online del fatto merda ma ci mettiamo tipo nei panni di una ragazza di 14 anni che entra online mette una foto perché si è messa si è comprato un bel costume e le piace il proprio culo vuole farlo vedere e appena lo fa è la troia e c'è un commento che mi fa morire da ridere che è solo pre-order sotto le foto di alcune bambine scrivono pre-order porco dio incredibile vabbè e c'è gente che veramente non capisce nulla ed è veramente una sfida parlare con queste persone qui e a volte l'unica scusante che ho per i contenuti irriverenti provocatori che porto e tu puoi capirmi visto che irriverente provocatore lo sei anche tu è vedete che oltre questa cosa online non porterei con me molti di questi atteggiamenti fuori perché perché siamo qui e ahimè sono cambiato molto questo punto di vista e penso davvero che anche allo sciacallo di merda che scrive no allora dovrebbero stuprare pure Elena sto stronzo merita qualche carezza in più ma tipo 17.000 e non però riuscirei tanto a recriminare qualcuno se in mezzo a queste 17.000 carezze ci sia un piccolo coltello veramente no 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 ma lo dico con grande sincerità riesco a capire tanto l'amore riesco a capire tanto l'odio riesco a capire la frustrazione la stanchezza e io un po' con il mio video volevo parlare della stanchezza di sentire gente che è stanche quindi è una specie di meta stanchezza io penso questo cioè a un certo punto questa è una critica che ti faccio perché non 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 mi sono riuscito ad accapezzare su questo punto che ora mi stai spiegando perché il punto è che noi abbiamo una situazione nella quale stiamo arrivando al punto da fare tone policing da fare di alzare il ditino e dire no però non può andare bene il modo in cui lo stiamo facendo perché tu con tutto che sei stato abbastanza chiaro sul fatto che secondo te il politicamente corretto ha una sua valenza sociale ha una sua valenza culturale ha una sua valenza da un punto di vista del progresso l'ordine è ordinato e il caos è disordinato è certo dall'altra parte mi è sembrato abbastanza appunto tone policing fare cos'è tone policing cioè recriminare il fatto che io uso un tono e dei modi che non vanno bene cioè per carità l'intero video si basa sul fatto che vai a criticare degli slogan del politicamente corretto alcuni dei quali non lo so mi sono sembrati un po' mi hanno fatto un po' impressione perché in realtà non li ho visti così tanto forti come slogan no ma è lo slogan sono gli slogan che arrivano a me sono quelli che ho voluto raggruppare io ho fatto veramente un mischia dal punto di vista il politicamente corretto come movimento non esiste o comunque è una cosa il mettere leggi in qualcosa allora è sempre stato il politicamente corretto allora il primitivo non doveva più stuprare perché c'è gente che diceva senti fa male porco dio basta no da quel punto di vista no no ho fatto effettivamente un mischione e come hai detto tu ho voluto criticare i modi perché poi la cosa il punto successivo di cui tu hai parlato nel video è hai messo in chiaro un po' quali sono secondo te le armi che vengono usate dal movimento del politicamente corretto che sono la persecuzione l'esclusione sociale ora io non riesco a mettere su questo piano questo discorso perché a me sembra assurdo che la persecuzione ce l'abbia la persona come me o come te ad esempio cioè i perseguitati fino a prova contraria sono le persone come il mio amico che una settimana fa mi ha detto guarda io ho veramente rischio di essere accoltellato la perseguitata è la mia ragazza che riceve commenti se assisti ogni singola stragazza di foto che mette anche una foto di un piatto per dire di un piatto di pasta la perseguitata è la persona transgender che mette nero su bianco il fatto di essere fiera di aver fatto questo passaggio o fiero eventualmente di aver fatto questo percorso perché si è reso conto o si è reso conto di cosa di chi veramente fosse i perseguitati sono loro cioè non possono essere perseguitati le persone che attivamente vengono da loro a dire vabbè sai che c'è io se ci fosse se fosse legale porca trae ti brucierei cioè capito che ti voglio dire io io penso questo però che dire lo sono per un certo senso anch'io non equivale a tu non lo sei più cioè non voglio dici in che senso nel senso che volendo mettere un po' riflettore su quella che è la mia sofferenza io non vorrei toglierlo a te vorrei semplicemente accenderne un altro io non penso che dovrebbe funzionare dimmi sai questo è un punto importante in realtà cioè perché ci si lamenta di questo perché purtroppo ti dico perché mi lamento io di questo qua io mi lamento di questo perché è vero che il privilegio esiste ma nel senso che se non sei d'accordo su sta cosa minchia se hai vissuto a Messina sotto una pietra sotto una pietra e la gente che ha il privilegio purtroppo e questa cosa è anche una delle grandi critiche di chi invece non ne ha così tanto ha potere vero potere mediatico ma nel senso che se diventa veramente una gara a chi ha più potere e a chi soffre di più soffrono di più le persone di cui sto parlando più e hanno più potere quelle di cui sto parlando io ovvero le nuove perseguitate oppure quelle che proprio fanno un video dicendo merda anch'io piango tipo aiuto qual è il fatto che davvero queste persone a mio parere meritano ascolto al di là di quello che può essere banale o non banale nel loro sentirsi perseguitati o sofferenti perché può anche non essere vero ma cazzo è quello che stanno dicendo lo sto dicendo da un po' merda c'è una verità di fondo e qualcosa mi dice che dire a queste persone oh però c'è gente che sta soffrendo di più ma vuoi veramente fare un paragone sì lo vogliono fare ma già l'hanno provato non solo queste persone ricordiamoci che hanno il privilegio quindi a mio parere dovrebbe essere l'interesse di tutti far sì che questi chiamiamoli mostri ma mostri nel senso buono e cattivo nel termine nel senso che se c'è qualcuno che ha privilegio ma che è anche accecato da un certo punto di vista tra parentesi il privilegio acceca perché te che vivi sempre bene appena ti succede qualcosa di bruttino oh merda ma che cazzo è no sto soffrendo appena ti si toglie un oncia di quello che è il tuo privilegio sono d'accordissimo con te è proprio matematica lo può capire anche chi non ha mai sentito parlare di privilegio sociale online è proprio una cosa che funziona così Filippo ha avuto questa terribile dinamica e poi terribile l'ha fatta diventare per un'altra persona ma se a mio parere queste persone qua vanno educate non solo perché poi viviamo meglio ma perché viviamo meglio perché una volta che capisci di avere del privilegio cazzo se lo puoi usare a vantaggio di tutti quelli che non ce l'hanno ma cazzo sì io ho avuto un fantastico esempio ad esempio nella mia vita io ho avuto il piacidissimo di appartenere a un liceo dove su 28 persone eravamo 27 ragazze questa cosa la racconto sempre ma anche se non le tocchi ma anche se non nessuno dispara neanche neanche se ci hai una relazione ma neanche se sei amico loro ti cambia la percezione di cosa c'è nel pianeta terra ma tanto è una percezione utile che serve a tutti sono abbastanza sicuro quando dico che questa percezione qua quando non ce l'hai e io l'ho avuta per caso non me la sono cercato ho avuto culo sono stato privilegiato nell'essere vicino a gente che non lo era come me in un certo senso pure in questo qualcosa mi dice e sono abbastanza sicuro anzi non qualcosa mi dice sono abbastanza sicuro che se quelle persone che magari non hanno avuto questo culo su internet trattarle immediatamente anche se capisco bene che è la prima cosa che ti viene in mente col paragone ma aspetta tu stai soffrendo ma vedi che c'è gente che è la portatrice della sofferenza true queste persone qua non possono che vederla cazzo come una sfida cioè io penso che se c'è un ragazzo che per quanto riguarda la storia di Giulia si mette a dire frasi come quelle che abbiamo già detto comunque un po' scemotte ma certo che non è cattivo però è bello stupido cioè bello ignorantello sta persona qua gli serve un fondamento e qualcosa mi dice che se continuiamo con questi modi qua anche legittimi ripetiamo tutto quello abbiamo detto fino a ora questa persona non solo rimarrà ignorante che è la cosa peggiore è la cosa migliore che può succedere un ignorante rimane ignorante tanto ci facciamo gli amici a posto nella nostra cerchia ma la cosa peggiore che succede è che non userà mai il suo privilegio come dovrebbe essere usato e questa è una cosa che ai privilegiati serve tanto cioè vivere in un mondo dove il privilegio si appiatta si appiattisce e finalmente quello che il femminismo vuole da un po' di anni a questa parte perché comunque anche quello ha avuto come movimento tantissime modifiche diventerà realtà ovvero che non solo si raggiungerà un'equalità a livello di quello che valiamo a livello proprio di diritti ma anche solo sociale nel mondo ma chi effettivamente sa di essere di essere detentore di un privilegio solo perché maschio bianco potrà usarlo a suo vantaggio ti faccio un esempio ad esempio di come l'ho usato io standomi zitto ogni volta che i miei amici facevano una battuta sessuale alle ragazze stessa cosa anch'io faccio il rompicoglioni faccio il rompicazzo ma infatti su questo questa è la cosa importante cioè allora siamo d'accordo sul fatto di rieducare le persone assolutamente sì il problema subentra nel momento in cui si va a tentare come un po' come ho detto all'inizio di mettere sullo stesso piano della responsabilità perché in qualche modo non posso farti da insegnante di vita per qualcosa che purtroppo deriva dal fatto di essere nato e cresciuto in un ambiente che ti ha cresciuto con dei valori di merda e mi dispiace però purtroppo arriva a un certo punto in cui devo mettere sulla bilancia la mia incolumità con il riuscire a fare in modo che poi tu viva meglio mi sembra ma per questo sono ancora in dubbio su questa cosa qua perché comunque sì certo che ho capito perché comunque internet è sia utile dal mio punto di vista ma anche utile per il tuo ma nel senso che io sono veramente passato dall'influencer che sparava a zero a influencer che dice ma forse se dico cazzo tre volte la gente si arrabbia e veramente ci tengo perché al di là dei miei discorsi che possono essere anche un po' più banalotti tipo videogiochi del terziario usiamo la parola ci tengo e ci tengo al fatto che la gente che mi segue mi incontra e che parla come me e che mi scrive cose assurde come Marco la mia personalità la sto basando su di te oh merda è importante un po' educare in questo modo qua ma ripeto non posso criticarla come come modo superandi il tuo o quello di chi veramente si trova senza armi se non le stesse che gli vengono puntate avanti ma scelgo di fare il contrario perché comunque sia quello che era anche il messaggio del video finale anche se purtroppo noto che nei miei video ma proprio è una roba di analytics quando arriva la favola becera ovvero merda stringiamoci la mano la gente spegne il video merda non dice più merda delle persone a chi se ne è fottuto un cazzo però mi rendo veramente conto che al di là di come tu ti comporti con le persone che ti seguono e che non vogliono seguirti e al di là di come mi comporto io abbiamo entrambi la voglia di stare meglio e di far stare meglio quindi secondo me è un po' questo che internet ha perso anche quello che stiamo facendo adesso perché a sentire un Alessio che dice una cosa diversa da me o non è adatto al mio video a livello di mitia non vuole parlare con me fa schifo è quella è quello il problema perché ovviamente ognuno vivrà e si comporterà a livello di educazione e di intrattenimento mediatico soprattutto online visto che voglio parlare di quello principalmente come cazzo vorrà ma è vero che tutti quanti ma pure l'idiota che scrive Elena dovrebbe essere stuprata pure lei vogliamo tutti stare bene il problema è che c'è così tanta gente che viviamo tutti cose così tanto diverse abbiamo esempi così tanto a volte distanti fra di loro che che non posso che dire dovrò ancora crescere in questa cosa ma per accettare anche di più le persone che magari non si comportano come me a livello proprio educativo e di responsabilità ricordandoci però che come hai detto tu e sono veramente d'accordo che siamo online quindi responsabilità ed educazione veramente fino a un certo punto a un certo punto dovrebbe anche entrare il buonsenso e la responsabilità di chi ci sta guardando è perché io non posso dare per scontato il background di quella persona lì cioè quando io sento una persona che mi vuole morto o che scrive guarda magari fai la fine di Giulia online non do per scontato che cosa lui ha passato per arrivare a quel a quel punto lì do per scontato che lui mi vuole è morto allora quando si va a fare ti dico io un po' come la vedo la cosa magari un po' troppo bianco e nero però mi rendo conto che dal mio punto di vista purtroppo vedendo certe dinamiche toccandole con mano cazzo ho assunto forse una posizione di netta su questa questione per quanto mi riguarda il mondo si divide in oppressori oppressi e ignavi ci sono quelli che attivamente opprimono delle categorie quelli che subiscono e poi ci sono quelli che si girano dall'altra parte che attivamente si girano dall'altra parte perché hanno paura di un cambiamento dello status quo quelli che si girano dall'altra parte non fanno nient'altro che dare campo libero alle persone che opprimono la seconda categoria quando invece potrebbero sfruttare il loro privilegio per fare qualcosa di positivo e per potersi mettere loro in prima dire ma avete un po' rotto il cazzo perché io non devo essere omosessuale per dirti frate adesso tu vieni con me ti portiamo in questura perché hai attaccato il mio amico in quanto omosessuale cioè non devo necessariamente essere omosessuale così come non devo appartenere a nessuna a nessuna minoranza il problema è che quello che io ho visto nel tuo video è stata una sorta di ribaltamento di quella che è la realtà delle cose cioè aver detto che in qualche modo gli oppressi sono diventati i nuovi oppressori l'ho visto veramente in qualche modo per me l'ho visto grave perché si sta mettendo sullo stesso piano persone che non hanno minimamente lo stesso potere né mediatico né tanto meno proprio a livello di diritti proprio su carta in alcuni casi come si fa a fare in modo che come fai a come si fa a credere che l'oppresso in qualche modo diventi il carnefice perché a me questa cosa qua mi sembra quasi come se mi sembra molto simile a quella retorica che viene usata del i veri fascisti sono gli antifascisti cioè a me quella roba là capito mi ha fatto e finisco e finisco subito certo cioè questa roba qua io l'ho trovata grave per una sola questione e cioè per il fatto di aver dato in qualche modo l'impressione magari non è la tua intenzione o magari sì non lo so di aver dato l'impressione in qualche modo ci fosse una una sorta di ribaltamento del paradigma di oppressione che in realtà non è mai avvenuto perché comunque come tu hai detto all'inizio del video e lì l'ho visto incoerente all'inizio del video hai fatto vedere che in realtà i commenti di odio sono aumentati in questi ultimi anni l'omotransfobia il razzismo addirittura l'antisemitismo addirittura soprattutto quando è entrato Elon Musk su Twitter l'ha fatto diventare ex che vabbè si sa che cazzo ha fatto quell'uomo mi ha capito ha fatto il panico e cioè dire quella cosa all'inizio e poi dire dopo in realtà c'è un ribaltamento gli oppressi stanno diventando gli oppressori l'ho trovato profondamente incoerente con quello che hai detto ma incoerente con la realtà che mi circonda perché la realtà che ci circonda non è minimamente in questa maniera qua non è minimamente questa secondo me minimamente sì nel senso che nel senso che c'è una cattiveria che è vera che sta nascendo nelle persone che ad esempio hanno capito che come te a volte ci si ritrova semplicemente con delle armi in mano solamente perché te le hanno fornite per sopravvivere e non per educare ma a un certo punto tu devi pararti il culo e basta e c'è gente che è addolorata ma anche da un certo punto avvantaggiata all'immobilismo della vittima può usarlo a suo vantaggio per dire se sono una vittima ed effettivamente è vero che sono più oppresso perché magari faccio parte di quella classe sociale o ho scelto questa o questa sessualità qua è molto facile ottenere non solo un'immunità totale dalle critiche perché che cazzo vuoi dire a una persona che soffre soprattutto che cazzo vuoi dire a una persona che soffre e il quale gruppo sociale soffre da un sacco di anni per colpa dei privilegiati magari cosa cazzo vuoi dirgli uno e secondo me questo è già un piccolo privilegio nel senso non voglio neanche confrontarlo al mio privilegio ma nel senso proprio come parola neutra è un privilegio il fatto che nessuno può romperti il cazzo perché stai piangendo perché come ho detto io nel video le cose le stai dicendo piangendo quindi la vittima un po' si blocca e c'è questo vittimismo qua e io ho visto davvero tanto su internet anche solo una provocantissima dinamica come quella là del kill all men di due anni fa oh super divertente però il fatto è questo che quando un uomo fa quando un privilegiato parliamo di un privilegiato fa una minchiata i non privilegiati quindi quelli che hanno sofferto di più quindi che hanno una visione del mondo ma veramente anche più matura o anche solo ampia di quello che succede non solo alla loro vita ma anche alle vite di quelle là che sono come loro quindi non privilegiati e queste persone qua si mettono a comportarsi con questi privilegiati qua in determinate maniere andiamo sempre in quel punto là è molto facile arrivare alla cattiveria è molto facile arrivare c'è molta gente quando è uscito kill all men molti cretini hanno scritto ah sì e se qualcuno scrivesse uccide tutte le donne e la gente si lamentava ma cosa cazzo vi aspettavate perché certo viva la provocazione ma voi non state provocando la persona sofferente quindi ipoteticamente più intelligente perché sa come funziona il mondo che ha il modo di mettersi in dubbio perché in dubbio sia per modi sbagliati o giusti lo sta facendo si mette da tutta una vita porca buttana ma tu stai utilizzando la provocazione con un leone di merda ignorante che appena vede queste cose non può che reagire con un'altra ignoranza quindi io questo io questo sto intendendo quando dico carnefici perché si è scoperto che vendicarsi di qualcosa che magari che ovviamente nessun uomo che ha scritto noto almeno ha ucciso una Giulia certo certo ma c'è ovviamente una bellezza nello sfogare la propria fatica sociale del cercare di mandare avanti i propri movimenti le proprie ragioni i propri legittimissimi diritti che secondo me può ricadere benissimo nella cattiveria nella provocazione solo per essere provocazione e nel cercare di prendere in prestito il peggio del privilegio altrui ovvero quello del chi se ne fotte se dico sta minchiata tanto sono uomo che diventa chi se ne frega sto dicendo questa minchiata tanto sono vittima non credo che non credo che questa dinamica accada nella maniera in cui la racconti nel senso che io non credo che ci si sta parando dietro al fatto di appartenere ad una minoranza per non essere per non ricevere nessun tipo di critica quello che succede è che se io faccio parte di una minoranza e tu vieni da me a dirmi come io in realtà dovrei vivermi l'oppressione che subisco o come vivo la discriminazione che subisco o a dirmi addirittura guarda che in realtà tu te la stai un po' inventando perché in realtà non è che soffri così tanto allora lì io ti dico vattene a fare in culo perché non hai nessun tipo di né di diritto ma tantomeno di di argomentazioni in mano per poter dire a me come io vivo in mia sofferenza ma tu stai parlando del primo passo se arrivasse da quelli che opprimono mettiamoci un attimo invece nei panni di chi magari ok si faccio faccio un attimo sta cosa qua se io a un certo punto arrivo al punto di riuscire a sfruttare delle armi anche da un punto di vista dialettico e comunicativo per mettere a tacere sti strozi che vengono da me e attivamente mi dicono senti tu mi hai rotto il cazzo perché non puoi chiedere i tuoi diritti in questa maniera perché in realtà tu non vuoi i diritti per la tua minoranza ma vuoi dei privilegi io non posso essere messo nel gruppo dei privilegiati perché è un cambiamento di paradigma che non può avvenire perché in qualche modo il mondo ci si rasse sempre nella maniera in cui abbiamo descritto loro sono comunque oppressi cioè se la mia ragazza dice ma hai rotto il cazzo sei un un incel di merda a un tizio che le scrive online e gli manda il cazzo in chat la mia ragazza non diventa privilegiata e carnefice diventa una ragazza che capito ma è un po' come i tizi che vogliono difendersi dal not all men non è che state diventando assassini solamente perché la gente vi dice responsabilizzatevi di quello che siete ma per mio parere anche la vittima deve responsabilizzarsi di quello che è perché tu stai parlando l'esempio che portavo tu la prima mossa l'ha fatta l'oppressore ok mettiamoci nei panni di un ragazzino di 12 anni che ha l'iPhone i suoi genitori l'hanno comprato perché siamo degli idioti qua in Italia entra e gli stanno dicendo sei uomo pa 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 oh ma cosa cazzo ho fatto hai detto cosa cazzo hai fatto questo 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 e non solo hai fatto questo ma hai appena utilizzato la scusante cosa cazzo ho fatto che stanno usando anche i veri oppressori cioè certo che la tua ragazza deve rispondere agli stronzi in una maniera stronza ma il fatto è che non sono tutti stronzi e il fatto è che a volte non è che non lo sono perché non è mai successo in una mente in cui comunque sai che sei privilegiato e sai che rispondere noto almeno è un po' scemo ma anche in uno che magari entra su internet adesso quello che è il mio pianisteo del video si basa proprio su questo che quando eri entrato su internet io era veramente incredibile la situazione perché? perché eravamo di meno perché tutti ci conoscevamo anche se non ci conoscevamo oggi ci siamo tutti e abbiamo quindi dei co abbiamo una tabula rasa quando entri online giusto? e entri sempre un po' bianco e ti puoi scontrare veramente con una realtà che è così tanto abituata a combattere in maniera anche legittima come hai detto tu o come a volte si comportano le tue amicizie o anche la tua ragazza cosa che secondo me tutti possiamo condividere che capiamo e conosciamo tutti che merda è come entrare in un server di World of Warcraft adesso non sai un cazzo e vieni messo in una battaglia che magari non volevi neanche ma anche grazie mille anche la sola estetica di comprarsi un telefono per far parte di una community più grande di quella che è la tua merda di cameretta casa città paese è fantastica però dimmi no no è fantastica ma finisce in un modo che potrebbe davvero prendersela con chi oppressore magari non lo è mai stato ed è questo il contorto termine carnefici che io utilizzo nel video che ovviamente non voglio minimamente paragonare ai veri carnefici perché ho visto che un po' di persone mi hanno risposto a questo punto di vista ma di fatto se utilizzi questa cosa qua e come scusante nonostante è legittima hai il fatto che hai sofferto e che sei più oppresso comunque stai facendo star male una persona che non sai se effettivamente è stronzo o no e quindi tu non sei la ragazza che tu conosci benissimo con lo stronzo che lei conosce benissimo ma un simbolo contro un simbolo bianco nero cioè questa polarizzazione di internet ma ha rotto i coglioni e questo è il motivo per cui io me la prendo ma ci mancherebbe anche solo fare un confronto con le persone cioè io ho così tanto il culo di alzarmi la mattina e dire porco dio sono bianco etero alto e la gente non se la prende manco dal fatto che sono grassissimo anche se comporta dei gravi problemi e sono un influencer e prendo dei cazzo di soldi dicendo online c'è che è culo ma come potrei veramente fare a paragonare questa cosa qua ma qualcosa se dovessi fare come le persone che sono effettivamente oppresse quando sentono qualcuno fare questi paragoni che sono molto facili che finiscono nel fraintendimento come cosa tu vuoi forse paragonare no ovviamente no ma è molto palese per me vedere delle similitudini a volte anche grosse fra i vari comportamenti e purtroppo quando c'è la sofferenza di mezzo l'esclusione sociale o il bullismo o anche banalmente la mia fidanzata che mi dice mi dispiace sei maschio non puoi parlare è molto facile che io appiattisca così tanto le cose nel mio cervello che dico non è che sono stanco perché adesso c'è una gara di oppressione sono stanco perché non si capisce più un cazzo perché è molto facile adesso prendersela con i simboli è molto facile cercare il cattivo è molto facile cercare il cattivo è molto facile avere un nemico in comune ma nel senso che la gente impazzisce appena non c'è e questa cosa qua ovviamente visto che era il messaggio un po' più carino del mio video e poi ti lascio parlare perdonami è stata una cosa è stata una cosa completamente ignorata ho detto ma ci pensate che entrate online e vedete che l'ultimo messaggio di un botta risposta terrificante è oh ma diventiamo amici ma col cazzo ma chi vuole abbandonare la propria leggendaria guerra in ricerca di un nemico per fare amicizia ah merda perché io pensavo fosse invece la missione principale io credo che si sia un po' che si sia un po' persa la bussola da questo punto di vista perché io veramente ti giuro Alessio fino a un certo punto me la prendo con le guerre perché come dici tu a volte bisogna bruciare per far ricrescere questa fenice e in molti contesti ma anche geopolitici visto che vengo dalla Sicilia sarei d'accordo in realtà sarei d'accordo forever non cambio idea su queste cose qua ma è sempre così lontana il risultato di questa missione ovvero di dai facciamo amicizia siamo tutti uguali cerchiamo che ovviamente la mia attenzione va sui metodi che si stanno usando e sulla comunicazione che si sta usando perché il fallimento è ovviamente lì e fino a un certo punto io me la posso prendere con l'oppressore o l'oppresso per capire cioè è veramente il nuovo sistema di comunicazione che tra parenti sta usando che sta creando un altro tipo di persona perché non siamo più Marco che parliamo o Alessio che parliamo ma quello che ha mandato un buon messaggio è il rompicoglioni che ci ha visto qualcosa di brutto no ma la gente è centomila volte più complessa di così internet agevolando il fatto che adesso c'è un grande numero di persone sta anche agevolando il fatto che è molto facile trovare un nemico per dare una facile risposta a quelle che sono le guerre secondo me non è mai facile punto allora ci sono tre punti sui quali io in realtà non sono d'accordo perché si parla di gara gara di chi soffre di più ma in realtà questa gara chi soffre di più non è una gara che inizia l'omosessuale dicendo guarda io soffro più di te no l'omosessuale ti dice guarda io sto male e ho bisogno di leggi che mi tutelino certo certo ma infatti io non parlavo di loro quanto di quelli là che un po' li difendono che quasi stanno male tanto quanto vabbè perché il punto è che la gara la comincia il ragazzo maschio etero basic come me che va attivamente da lui è dirgli guarda che in realtà tu non soffri così tanto perché io soffro quanto te e pertanto la tua istanza di oppressione la tua richiesta d'aiuto è invalida cioè quello è il punto la seconda cosa la tua richiesta d'aiuto è invalida cioè è invalida nel senso che siccome io soffro come te perché io e te soffriamo nella stessa antica maniera allora quello che dici tu non vale più però non lo sai se soffre come te cioè da che punto di vista soffre come te no 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 dico l'uomo eterosessuale che va dall'uomo omosessuale o il bianco che va dal nero ok a dirgli guarda che in realtà tu quello che mi stai raccontando è un po' ingigantito in realtà non è che soffri così tanto perché non soffri così tanto perché anche io soffro come uomo eterosessuale bianco quindi automaticamente la tua istanza di oppressione è invalidata e non ho nessun tipo di voglia nel prendere parte di una battaglia di richiesta di diritti o di riconoscimento dei diritti non soltanto su carta ma proprio diritto da un punto di vista socioculturale di vivere la vita uscendo per strada senza rischiare di essere accoltellato o di essere insultato in quanto omosessuale o in quanto nero cioè questo è il vero problema la gara la inizia e questo purtroppo è per lo meno da come io la vivo magari vi due una bolla magari no c'è gente che la vedo sempre cominciata da chi ha effettivamente il privilegio in tasca e mi dispiace dirlo in questa maniera la seconda cosa con cui non sono d'accordo è che io non non vedo assolutissimamente l'esistenza di una dinamica di ribaltamento del potere come l'hai descritta tu perché in qualche modo si torna sempre si deve sempre secondo me tornare un po' con i piedi alla realtà dei fatti non riesco a concepire un ribaltamento del paradigma di oppressione semplicemente non l'hai descritta come un bel ribaltamento io ho detto solamente che vedo delle similitudini vai c'è riferimento al punto del video soprattutto al punto del video in cui tu hai fatto quello schema gli oppressori diventano carnefici esatto c'è quella roba là io non riesco né a visualizzarla nella realtà e né tantomeno riesco a visualizzarla in quello che è stata anche la reazione al tuo video paradossalmente perché la reazione al tuo video tu stesso ti aspettavi appunto i cecchini ti aspettavi diciamo i censori dell'internet ma in realtà hai avuto un plebiscito e io credo che sia in realtà molto importante questo per due motivi numero uno domandarsi questa è una critica che faccio più al tuo canale che altro ma vorrei essere costruttivo nel modo in cui la faccio domandarsi se effettivamente tu sia finito in una bolla ma questo è poco ma sicuro cioè a livello proprio algoritmico algoritmico e anche di autoreferenzialità nel modo in cui si vanno a giudicare i tuoi stessi contenuti e seconda cosa bisogna effettivamente chiedersi se effettivamente quello che si è raccontato fino ad ora ha effettivamente una propria valenza e una sua una sua realtà una sua oggettività nella realtà merda ma io io penso che molta gente possa ritrovarsi nel sei stato oppresso da chi critica l'oppressione ti faccio l'esempio mio ti faccio l'esempio io sono stato per tutta quanta la mia vita un misogino del cazzo ok proprio un misogino del cazzo ho fatto anche parte di alcuni gruppi redpillati anche su facebook ai tempi della mia adolescenza da solitario maschietto qual'ero non ho mai ricevuto una censura nel momento in cui io mi sono separato da quel tipo di visione della realtà che era una visione profondamente discriminatoria e misogina io non vengo non sono mai stato tacciato in quanto uomo odio sessuale bianco non è mai successo tu vieni tacciato o perlomeno ti viene detto senti sai che tu non puoi dirmi un cazzo perché non sai minimamente quello che sto passando nel momento in cui tu vieni attivamente da me a dirmi come io dovrei numero uno come io dovrei vivermi l'oppressione o comunque la discriminazione numero due come io dovrei reagire a questa discriminazione e numero tre a come in realtà tutti stanno male quindi siccome tutti stanno male nessuno sta veramente male te compreso uomo nero uomo senza cittadinanza questa cosa è folle lungi da me voler mandare questo messaggio però trovo un po' strano il tuo non vedere che merda ma nel senso entri in qualsiasi cioè è facile trovare in qualsiasi piattaforma censurato o no la persona che scrive sti ciz di merda morite allora in questo senso qui cerco di di spiegarmi nella maniera tale da farti arrivare quello che che in realtà io sento da questa parte sempre fra virgolette da questa parte perché non è che non parliamo di fazioni ma parliamo di per farti capire che io parlo da da una sponda magari diversa ecco vengo riconosciuto in un gruppo diverso quando una una ragazzina no di 22 anni scrive su twitter gli uomini eterosessuali mi hanno rotto il cazzo per quanto mi riguarda io non ho nessun tipo di volontà numero uno nel andare da lei a dire come effettivamente avrebbe dovuto ripensare ricostruire quella frase lì e numero due non ho nessuna cazzo di idea su quello che quella ragazza lì abbia passato per far arrivare a quella ragazza lì per un pensiero così perché Dio solo sa che cazzo avrà passato e tu sei molto fortunato a vivertela così perché sai ragionare però veramente metti nei panni di qualcuno che entra online e vede questo perché ovviamente quando io leggo queste cose non me la prendo perché sta parlando di me perché è molto palese il fatto che io non so cosa sta passando lei come è palese il fatto che lei non sa cosa stanno passando alcune persone per parlarne in maniera così generica ma io voglio togliere me dalla questione voglio prendere il me che magari entra su internet adesso e che non sa un cazzo e che legge questo in più sei stato molto generoso a dire 22enne io vedo gente ma anche con un potere mediatico anche abbastanza alto dire dai facciamo che morite tutti va bene oh no super divertente perché allora sai qual è il discorso è che lì non si sta ci possono sicuramente essere degli errori di comunicazione in questo senso questo questo riposto anche della ragione assolutamente sì ma non perché io non posso capire perché io capisco ma deve essere super figo di scrivere kill all man merda si incazzano tutti vuol dire che ha funzionato certo è funzionato dal punto di vista io veramente voglio togliere me da questa equazione voglio togliere le persone che hanno vissuto su internet abbastanza ma anche nel pianeta abbastanza per capire che è solo una becera propria azione che però crea qualcosa succede qualcosa ma quello che ti chiedo diciamo sì se quando si faccio una premessa alla domanda che sto per farti quando si fa un discorso di questo tipo a parte che kill all men a parte qualche veramente 4-5 scappate di casa su twitter sto veramente prendendo kill all men come esempio ma non voglio parlare solo di quello ovviamente sì 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 perché nella stragrande maggioranza dei casi non esiste questo discorso a livello intersezionale non è mai esistito cioè nessuno si sognerà di fare questo discorso intersezionale tu sei vittima di un sistema oppressivo nell'intersezione fra diverse cose tu Marco sei bianco sei etrosessuale sei alto però sei discriminato sulla base dell'aspetto fisico ok sei più oppresso rispetto a me perché sei nato in un ambiente ora non lo so ma facciamo finta che sia così sì 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 in un ambiente con meno possibilità lavorative e meno possibilità di poter in una classe sociale più bassa mettiamola così magari non è vero ma che in realtà è giusto è vero è quello che ho sempre raccontato anch'io la tua oppressione è istanza di intersezioni della classe sociale a cui appartieni il genere in cui tu ti identifichi l'orientamento sessuale eventualmente anche la nazionalità che tu hai ok io che sono bianco etrosessuale sono più privilegiato la mia ragazza che è bianca etrosessuale ma la mia ragazza è più privilegiata di una ragazza nera etrosessuale e così via e così via cioè è una scaletta di privilegio in questo senso qui a livello intersezionale non si è mai fatto un discorso non si farà mai un discorso del tipo kill all men che ripeto è appannaggio secondo me dei quattro scappate di casa su twitter di cui una il giornale uno dei più importanti americani è proprio quella che ho messo io perché al di là della ricondivisione dei tweet cioè l'ha iniziato la tizia importantissima che non mi ricordo la fonte ma feci una ricerca che dico ma come questa potere ma cazzo ma cosa fa vabbè e anche lì finisco scusami il discorso è un po' lungo nel senso che voglio parlare ho parlato tantissimo io figurati e il fatto stesso ad esempio di scrivere kill all men deve essere anche letto in alcune istanze in una chiave di lettura diversa e c'è gente che queste chiavi di lettura non ce le ha e questo sto dicendo io minchia tu entri online ma chi cazzo ma a volte chi cazzo anche se ne frega di ottenere queste chiavi di lettura per capire l'intrigato mondo della provocazione ma se voglio entrare a vedermi gattini porco Dio entro e le leggo kill all men ma non perché la gente cioè è grezzo è proprio pesante per qualcuno che non ha ancora capito come tradurre la pesantezza nella propria vita ma nel senso che io non non biasimo per niente la mera esistenza degli ignoranti testa di cazzo quando esistono delle cose che se leggi ti rendono automaticamente un ignorante testa di cazzo mia madre che mi educava con le bastonate per molti anni della mia vita mi ha reso un ignorante testa di cazzo io ho finito per educare la mia fidanzata a volte a bastonate è il mio cane due delle donne che ho amato di più nella mia vita porca madonna perché perché mi è stato mostrato un codice come hai detto tu una chiave di lettura quando io non ne avevo quindi ho detto ah è quella giusta è quella giusta e a mio parere ridurre a queste chiavi di lettura qualcosa come internet che dovrebbe essere invece il luogo di compravendita di noi abbiamo questo 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 che ne pensi quale ti piace di più no è solo A contro B chi sei C no o A o B se stai zitto sei già uno stronzo prendi posizione sbrigati sbrigati quanti anni hai 12 abbastanza per scegliere una parte cioè che è pesante questo sto dicendo però lì il punto sa qual è è che ripeto Kill All Man è una parte veramente insignificante secondo me ripeto lo sto usando come esempio perché nella stragrande maggioranza dei casi ci troviamo di fronte a situazioni nel quale ad esempio una ragazza come la mia ragazza chiede semplicemente di non essere delegittimata in quanto persona che possiede due cromosomi X chiede soltanto di non avere un tipo di trattamento diverso rispetto a quello che altre categorie come la mia e la tua hanno perché si è rotta il cazzo di subire queste cose qua e molto spesso viene chiesto in una maniera anche in realtà educativa cioè quando si vanno a fare questi discorsi sul dobbiamo rieducarci noi uomini è un esempio in ultima istanza quando è successo il femminicidio di Giulia Cechettin quanti effettivamente gli uomini pur avendo scritto papiri capitoli interi paragrafi giganti articoli di giornale fatto servizi addirittura il padre stesso di lei che si è messo lì a spiegare stiamo cercando di far capire che c'è una volontà di rieducazione di un certo modo di vivere la mascolinità nonostante tutto quello c'è sempre e comunque purtroppo un muro che si erge perché c'è la costante paura di perdere quel tipo di privilegio lì cioè quello secondo me che fa il modo di non avere comunicazione con certe persone non è tanto non avere lo strumento intellettuale o accademico per poter capire la chiave di lettura del chilo almeno di quello che cacchio te pare ma il fatto stesso di avere la paura assoluta e l'assoluta certezza di mettere in discussione tutto quello in cui si è sempre creduto e di perdere tutto quello in cui si è sempre creduto io ad esempio il percorso che ho fatto io è stato porco cazzo è stata una cosa assurda perché io stesso ho sempre negato la realtà che mi circondava quando è che ho cominciato ad acquisire consapevolezza su quello che mi circondava perché quando ascoltavo mia madre che è stata quasi violentata a Berlino Est nell'89 perché c'erano dei nazi skin che cercavano di entrare nel centro rifugiati dove lei stava e sento una mia amica che ha subito la stessa cosa e sento la stessa identica dinamica in mia cugina mia zia mia nonna addirittura nei racconti di tutte quante le persone che mi circondano e poi ho fatto l'esempio di mia madre da un punto di vista femminile perché è la cosa più vicina che mi ha colpito ho detto ok cazzo aspetta no devo mettere in discussione quello in cui credo quello che manca a queste persone qui è la capacità di mettere in discussione tutto quello in cui credono perché hanno fottutamente paura che la loro stessa la loro stessa identità crolli come un castello di carte perché si basa su una un falso storico incredibile cioè che alla fine soffremo tutti non è così purtroppo io credo io credo che sia molto bello mettere in dubbio cioè c'è una bellezza ma proprio affascinante del mettere in dubbio quello che si crede per essere l'indomani una persona migliore di quella che era ieri e con persona migliore intendo che è un po' più aperta a capire che merda che c'è gente come dici tu sta super male rispetto a noi utilizzare le armi che abbiamo sia che siano privilegio sia empatia perché magari siamo ragazze pure noi e quindi possiamo empatizzare con le ragazze il fatto è che se sta gente come dici tu è veramente afflitta dalla paura di perdere quello che è il privilegio o quello che è anche solo l'estetica del no 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 ma a me va bene tutto e secondo me è vero ma ci sono anche altri fattori per cui la comunicazione di Elena o il padre non può funzionare tanto ma tipo è giornale è internet quindi sono forti fino a un certo punto di vista secondo me ci sono azioni da fare ma nel senso che dobbiamo spiegarci tipo banalmente scolastico educativo per quanto riguarda i genitori di cui non esiste nulla in Italia cioè i miei genitori nonostante abbiano passato faccio questo esempio molto soggettivo e personale tutta l'infanzia a distruggermi la faccia e ora fortunatamente ho fatto pace e amicizia con loro non sono mai andati da uno psicologo a dire senti ma che ne pensi di questo eh che cazzo ne penso in galera vabbè nel senso quello che penso io è che se veramente e ritorno ritorniamo sempre su questo punto qua e dobbiamo secondo me è il momento di trovare un punto d'accordo se tu pensi che queste persone qua stiano effettivamente si stiano effettivamente cagando addosso di perdere quello che è il proprio privilegio e sono d'accordo e in più mettendoci anche un motivo più complesso ovvero quello che non sono nel luogo adatto per imparare qualcosa ovvero online e i giornali hanno così tanto vomitato minchiate su questa questione che neanche voglio parlarci perché veramente mi metto a piangere allora sono veramente delle scimmie ci sono dei primitivi se un primitivo entra online e vede certe cose che cercano di far capire come reagire il primitivo lo resterà per sempre secondo la mia modestissima opinione e mi baso visto che tu hai usato i tuoi esempi su quelli che sono stati i miei esempi però non dal punto di vista femminile che fortunatamente ne ho avuti di epifanici ma quelli maschili che epifanici non lo sono stati perché sono stati quelli che ho avuto di più quando ero piccolo ovvero gente che davvero non è in grado di aprire le porte al dubbio nella propria vita perché il perché la perché hanno dei codici di violenza così chiari nel loro cervello cioè che loro devono ottenere le cose solamente perché sono nati col cazzo devono ottenerle cioè quando tu hai un codice di potere ma tirannico come questo non funzioneranno gli stessi codici per farti cambiare idea e e io sono pronto a metterci il mio cazzo sul fuoco su sta cosa cioè non funzioneranno e ovviamente tu ed io che siamo i figli della questione ovvero la gente che cerca di parlare su questa cosa qua impiegando il nostro tempo in maniera costruttiva stiamo costruendo qualcosa potranno indovinare tutte le dinamiche che ci stanno come contorno a questa cosa ovvero il fatto che sì ma io lo sto usando perché le armi a un certo punto diventano le armi certo eh sì però io visto che ho la vita da influencer devo capire possiamo dire quello che cazzo vogliamo ma parliamo comunque sia di piccole scimmie che hanno codici davvero assurdi per quanto riguarda l'educazione è quello che dovrebbero ottenere e o a questa gente gli mostri un modo superandi veramente diverso o può succedere il il peggio e secondo me il peggio è che no non cambia un cazzo è che inizia a essere una perdita di tempo anche il mio parlare con te per capire quella che è la chiave di questa cosa qua e questa è una cosa che veramente fa piangere perché comunque internet immobile lo è da un non lo so da dopo la quarantena è successa qualcosa magari è stata proprio la quarantena ma lo vedo in alcune cose immobile tante altre va veramente spedito e mi piace comunque rimane nel mio posto preferito anche banalmente perché oggi ho conosciuto te quindi bellissimo e ne parliamo davanti alle nostre community ma in alcune cose veramente lo vedo distante quello che hai detto tu prima è una maledizione che io non sopporto ma devo sopportare ovvero la bolla che ci si può creare e io vivo veramente per distruggere le mie bolle e quelle altrui ma so anche che sto continuando a impiegare il mio tempo in un posto che la bolla minchia te la vende volentieri ma anche a gratis te la fa passare cioè è molto secondo me facile cioè se è facile per me finire sia a livello algoritmico che di consensi di perbiscito come dici tu arrivare a dire mi sa che ho ragione io perché un sacco di mi piace fortunatamente ma ti giuro di credermi non me ne fotte un cazzo ma chissà forse perché non ho mai avuto così tanti non mi piace magari arriverà quel giorno sono privilegiato a questo punto di vista non sto scherzando grazie Tyrion ma continuando a parlare di queste persone minchia hanno tu parlavi di chiavi di lettura le loro chiavi di lettura sono sempre state una merda gli sono state date delle chiavi di lettura che ovviamente poi fanno finire gli educatori come i genitori di Filippo dire ma che cazzo è successo cosa è cosa amore mio cerchiamo di renderla una domanda non retorica cosa cosa è successo e a mio parere queste persone qua nonostante io persino qualcosa di estremo che ripeto sto usando come esempio per parlare del tutto e niente Kill All Man la possa anche io amo vedere il caos cioè io mi piace entrare online e vedere che 100 persone si sono incazzate perché qualcuno ha deciso di dire delle parole cioè come si chiama il comico che ha fatto Armageddon ah merda è Gervais Gervais si incazza per questa cosa a me comunque piace io quando era successo di Black Lives Matter amavo vedere le persone indignate a dire ma perché stanno distruggendo le statue cosa c'entrano cosa c'entrano il caos non ha non ha un'anima non ha una preferenza a volte fa solo schifo il mondo e a volte il mondo deve ribaltarsi per far capire quanto sta facendo schifo e questi però sono enormi estremismi secondo me parliamo di qualcosa dimmi posso dire una cosa su una cosa che hai detto vai per quanto riguarda il 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 discorso del hai usato una parola specifica tu hai usato la parola primate ok si per definire queste persone in realtà io sono d'accordo con il discorso che hai fatto perché siamo più o meno sulla stessa longazione ci stiamo capendo una cosa su cui vorrei che tu ponessi l'attenzione ma tu perché sto parlando con te ma in generale queste persone non sono primati cioè non facciamo l'errore l'errore che io dico sempre di non fare anche a me stesso che mi viene naturale dire ah beh questo è un mostro è quello di ridurre deumanizzare delle persone che sono le perfette figlie di un ambiente malato che la create ma ho detto scimmie per parlare di ok se tu la scimmia la fai vedere che si deve rompere la testa così le altre scimmie lo fa no era solamente a questo livello qua ma figurati io sono stato solo amico di fra virgolette scimmie in tutta la vita e detesto il fatto che ma anche apprezzo il fatto che do un valore al tempo passato con le persone anche se queste persone posso peccare di altezzosità e dire io sono più intelligente di loro cioè io voglio bene veramente a tutti quelli a cui sto attorno anche se a volte noto che la vita non è stata così tanto fortunata con loro ad esempio io vivevo vicino a questa via della mia città che era veramente delinquente ma tipo che due terzi dei miei amici erano col papà mafioso e loro non potevano fra l'altro che dire Marco aiuto o alcuni non lo dicevano neanche facevano dire aiuto agli altri che volevano ammazzare di bastonate cioè sì è terribile quindi scimmie da quel punto di vista nati con codici da scimmie ma certo non voglio deumanizzarli semmai voglio dire sì era per dirlo a te sì sì è un discorso che faccio semplicemente perché appunto capendoci siamo sulla stessa più o meno di essere non mi è deumanizzare queste persone per quello che vuol dire credo che sia anche importante il discorso del modo in cui si vanno a combattere certe battaglie io capisco assolutamente il tuo punto di vista e posso capire assolutamente il tuo modo di agire vedendola dal mio punto di vista io non riesco a non vedere una presa di posizione netta a livello anche dialettico a livello anche perché no anche un po' aggressivo in concomitanza con la volontà di educare queste persone qui per due motivi essenziali la sola volontà di educare queste persone purtroppo fallisce nel momento in cui queste persone si girano dall'altra parte e ti ridicolizzano e mettono a tacere te delegittimando quello che tu cerchi di passare loro a livello di valori umani e l'unico modo in cui io perlomeno sto osservando che può effettivamente avere dal mio punto di vista un minimo di apertura è questa breccia che puoi in qualche modo creare con una punzecchiatura un sassolino lanciato un disturbo che ti rompe il cazzo ciao Marco non è la stessa filosofia tua lo accetto quella una cosa molto importante in realtà che mi che ritorno su questo e poi diciamo chiudo quel discorso lì perché secondo me è stato anche sviscerato non si sta attivamente mettendo a tacere una categoria come la nostra semplicemente perché siamo abbiamo avuto la fortuna di nascere così ma si mette a tacere l'inutilità che quella persona porta a livello dialettico quando le uniche sue parole sono distizza di ridicolizzazione e di delegittimazione cioè allora lì io ti dico tu non capisci un cazzo non potrai mai capire un cazzo quindi evita di parlarmi perché non mi potete da nulla è vero hai ragione ma sono comunque dei piccoli fiorellini che non sono stati annaffiati ancora bene secondo me sai che c'è perché anche se si comportano da pezzi di merda minchia sono comunque dei pezzi di merda belli privilegiati ho paura che utilizzare dei codici aggressivi provocatori e legittimi come quelli che come la filosofia che utilizzi tu che però non è neanche così diversa la mia io sono un figlio di puttana a volte anzi la mia carriera esiste per questo però mi spaventa sempre di più grazie Marta mi spaventa sempre di più il trattare in determinati modi determinate persone perché ho paura che le blocco più di quanto loro stanno dimostrando di essere bloccate con me in certi dialoghi no no capisco la tua filosofia io non non sono d'accordo perché non ho visto questa questa volontà di cambiamento di messa in discussione se stessi è difficile è bella difficile è davvero difficile da vedere magari ci ho torto io e c'è ragione te no ma a mio parere a mio parere a mio parere oggi su internet e non lo dico neanche per chiudere il discorso e metterci pace perché non almeno nella nella filosofia diverse internet ha reso le cose difficili e internet e questa è una delle cose che mi fanno più schifo e piangere internet ha reso non le nostre due filosofie esistenti nello stesso momento ma quando verrà caricata questa live io invito veramente tutte le persone a non viverla come un ah ha ragione Alessio o ha ragione Marco ma nel capire che tutti quanti in un certo senso stiamo cercando di trovare il meglio in noi stessi e negli altri perché vogliamo educare in un mondo magari anche prepotentemente perché veramente a volte la gente non gliene fotte manco un cazzo di essere educata e io so che a volte pecco di presunzione perché penso che siccome ho dei numeri allora io devo a volte non devo dire un cazzo in realtà ma ci sono dei momenti come ad esempio quando succede questa cosa qua di Giulia dove veramente ognuno è importante che dica la sua e secondo me possono veramente coesistere le nostre due filosofie se entrambe hanno un in comune il fatto che veramente vogliamo cambiare le cose perché io potrò anche aver dal tuo punto di vista fatto confusione nel mio video ma spero di non essermi perso in messaggi dannosi che possono rallentare quella che è la mia community o anche solo la gente nuova molta gente nuova si è affacciata al mio canale dopo il video e qua su twitch spero questo e spero anche che la gente sappia che può parlare come ad esempio stai facendo tu con me nonostante provieni da un livello di critica perché questo è quello che mi fa schifo oggi di internet ovvero che ma chissà qual è la vittoriosa di queste due filosofie il fatto è che secondo me non lo sappiamo ancora neanche noi abbiamo determinato tramite pensieri a volte oggettivi a volte soggettivi che è quella che più ci si addice ma io adesso parlo per me non per te veramente io vivo nel dubbio ed è una battaglia che bisogna combattere ogni giorno ma per questo è terribile stare nell'immobilismo sia che sia della vittima sia che sia dell'oppressore perché stai fermo non capisci un cazzo ma nel senso neghi di capire un cazzo una cosa una delle cose che poi mi hanno colpito è uno degli ultimi punti che tu hai trattato sul Hollywood Vibes su Hollywood Vibes allora sull'Hollywood Vibes cerco di porla in una maniera tale da non essere frainteso per quello che sto per dire vai nonostante fosse il punto più fraintendibile del mio video sì ma oddio non lo so vediamo molti di quello là vabbè dimmi dimmilo tu allora quello che io non riesco a concepire a capire diciamo della filosofia che tu mi hai esposto nel video per quale motivo ci sono due punti importanti magari sei un po' lunga come cosa la prima cosa le persone che attivamente dicono ok vorrei delle good vibes attorno a me sono persone che già per tutta la loro vita hanno vissuto nella merda quindi io non capisco per quale motivo non dare loro la possibilità di creare uno spazio per se stesse nel quale loro finalmente possano sentirsi veramente al sicuro ma mai detto che non devono farlo mai detto certo però ecco quello che hai detto che mi ha lasciato un po' spiazzato è vediamo se ho preso sto cazzo di appunto che non riesco a leggere neanche bene cioè il il fatto di dire per come l'hai posta tu a me è arrivato questo mi è arrivato questo messaggio fattene una ragione comunque dovrai stare male per un motivo o per un altro io credo che questo modo qui di ragionare o che comunque di criticare le persone che attivamente cercano di creare degli spazi per loro stesse per avere solo ed esclusivamente in quegli spazi lì una positività che non hanno mai avuto nella loro vita o perché sono omosessuali o perché appartengono a categorie oppresse quello che ti pare anche se anche se nel messaggio parlavo veramente di tutti quanti non non degli oppressi ok sì no io ho fatto l'esempio dell'oppresso perché è quello più facilmente ok più facilmente si vuole creare uno spazio così ecco sì certo cioè come come si può dire ad una persona e ti chiedo se è questo il messaggio che volevo domandare vai vai a me è arrivato questo come puoi dire ad una persona che deve mettersi l'anima in pace perché comunque in qualche modo soffrirà lo stesso e che quindi Only Good Vibes non ha valenza nel modo in cui lo presenta e non può volere soltanto Only Good Vibes perché in qualche modo ti verrà un tumore cioè quello che queste persone qua vogliono non è un mondo dove siamo tutti quanti buoni e basta ma è un piccolo sprazzo di luce in un'oscurità dove loro stanno da tutta una vita io penso ma devono prepararsi a non averlo mai cioè certo che ci possono provare e certo che merda se lo meritano più degli altri intendo gli oppressi perché ognuno merita un piccolo bacino e qualcuno si sbriga a farli arrivare a chi magari la vita non l'ha dati ancora delle persone io ho un enorme debole per i deboli della mia vita soprattutto quelli là che lo sono per sfortuna il problema è che loro però già lo ricevono questo male cioè è questo che io voglio capire ma il fatto è questo che ho notato che internet da questo punto di vista è diventato un po' certo creati questo safe place ma a mio parere il safe place è stato un po' l'idea del safe place è stata un po' corrotta perché c'è effettivamente una bellezza nella noia nella sofferenza nell'essere anche se potrebbe essere assurdo oppressi e la bellezza di queste cose qua è che ti fa capire come giri il mondo non solo ti fa capire come proteggerti anche quando spegni internet e quei figli di puttana hai tutta la possibilità di incontrarli fuori non solo hanno anche la possibilità loro di spaccarti il culo per davvero e a mio parere bloccarsi perché è stato là anche che anche un po' coraggiosamente ho utilizzato robe come ti vuoi bloccare su ansioso ti vuoi bloccare su day damn quindi vuoi utilizzare dei nominativi per bloccarti in un momento magari anche in una sessualità e lo decidi quando sei ancora piccolo e lo sei per sempre e là ho paura di fraintendimenti fortunatamente non ne sono arrivate molti ma quello che volevo dire era che è molto facile oggi vedere il safe place come il luogo dove non può succedere altro che il bello e tu dici è minchia ma non dovrebbe essere così secondo me no perché perché le legnate la vita te le darà sia che tu combatti sia che tu non combatti e avere la fra piccoli cosa? mi sono un po' nichilista questa visione no ma io penso che sì sicuramente tantissimo ma io perché la cosa che io cerco di capire è io non voglio ma guarda se mi fai finire in realtà cerco di completarti il disegno perché l'idea del nichilismo ci sono delle cose che ma nella vita ti farà accadere veramente comunque sia ma non parlo di allora combatterai queste battaglie ma ti cadrà io parlo ti cadrà il dente a ti morirà la madre ti verrà oppressa la fidanzata ti morirà il cane ti farai male avrai delle delusioni fallirai in dei progetti c'è la vita c'è una sofferenza e c'è un'oppressione naturale che la vita ti dà solamente perché è intitolata vita che a mio parere se ci fermiamo in determinate anche solo etichette o determinati modi di essere o solamente come dici tu in delle bolle che che io onestamente odio e odio e odio chiudermi in queste bolle e amo capire che esiste questa bolla per romperla quando sei dentro una bolla e quando sei in una bolla soprattutto che ti rende come ho detto io nel video immune al male quando capiteranno queste cose qua nella vita di merda io penso che la gente potrebbe veramente impazzire e io vivo conosco delle persone attorno a me che nonostante gli voglia davvero tanto tanto bene comunque stanno cadendo un po' nel tranello di cercare di vivere al meglio ogni singola giornata questa continua ricerca del bene non bisogna mai parlare di cose brutte i ricordi sono il passato dobbiamo pensare solo al futuro dobbiamo evitare l'introspezione se è causa di male e io credo che sia davvero il modo per sicuramente ammortizzare quelli che sono i pensieri oscuri di oggi ma sicuramente di esagerare quelli che arriveranno domani quindi questo è un po' il messaggio che volevo mandare che certo che tutti devono cercare il bene ma è veramente ma anche solo distopico pensare Only Good Vibes perché viva le Good Vibes let's go è bello ritrovarci amici anche nella discordia di modi di fare ma Only Good Vibes è fuori testa è noto che alcune persone si stanno comportando così ma nel senso che i due confronti che faccio che trovano delle incredibili similitudini ero io a tavola con i miei genitori che dicevo tumore loro non dirlo no queste cose qua e adesso ragazzi che dico oppressione dico cazzo oh no 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 cioè non bisogna veramente spaventarsi per queste cose qua perché uno esistono e se esistono vuol dire che possiamo parlarne ma con tutta la calma del sapere che anche se ci sono cose brutte nella vita ci saranno anche quelle belle troverai degli amici che non ti giudicheranno se parlerai di cose anche se stai sbagliando anzi l'amicizia si vede proprio là secondo me non dobbiamo entrare nella gabbia dell'eliminare totalmente il male nella nostra vita perché in un certo senso è di riflesso al bene ma io aspetta però nessuno però nessuno vuole eliminare completamente il male della propria vita cioè queste persone qua richiedono soltanto uno spazietto dove avere l'illusione di stare momentaneamente in uno spazio in cui loro riescono ma rimarranno deluse rimarranno molto molto delusi ma non è che rimangono delusi loro sono consapevoli cioè la persona io conosco dei ragazzi omosessuali che ogni tanto mi fanno guarda tu almeno tu ti esponi su queste cose io mi sono detto il cazzo dopo anni in cui facevo più o meno attivismo online basta mi sono chiuso in una bolla perché non vi la posso fa loro già sanno quello che gli aspetta là fuori cioè non siamo noi a dover dire loro guarda che ti aspetta questo mondo qui già lo sanno ma questo è il fatto io non sto parlando solamente degli oppressi io sto parlando che ne so anche dei boomerini su facebook che credono che la frase quando c'era Mussolini potevo tenere le porte aperte a casa sia ancora una cosa degnitosa da scrivere io la parlavo ma veramente di tutti quanti ed era una cosa che c'è veramente non parlo solamente degli oppressi ok se parliamo di tutti quanti veramente di tutti quanti è un discorso però sono per questo discorso cioè tutti quanti ma veramente tutti quanti c'è una cosa che secondo me vale cioè l'oppresso potrebbe soffrire nello stesso modo in cui può soffrire un non oppresso se inizia a chiudersi nella gabbia della positività certo che nessuno vuole eliminare completamente il male nella sua vita dichiarandolo ma in modo soperandi di molta gente online a volte e a volte come ho detto nel video può essere anche tutte le volte che entro queste cose qua mi suggeriscono questo ovvero persone che vogliono solamente parlare con la propria community che vogliono chiudersi in quella cosa là ci sono miei colleghi che escono con i propri fan cioè ci sono miei colleghi che la loro vita sociale è con i loro fan oh certo fai quello che vuoi ma trombati i tuoi fan se lo preferisci ma che strana ma che strana cosa che potrebbe succedere se inizi a vedere solo con degli occhiali costruiti da te il mondo che non è costruito da te dimmi allora il discorso se vale per tutti quanti può avere secondo me una valenza ma sempre fino a un certo punto nel senso che certo qua stiamo sempre in un territorio in cui una persona se arriva al punto di volersi costruire una bolla attorno a sé evidentemente è perché ha già assaggiato quello che sta là fuori ed è perfettamente consapevole ma certo di una minoranza o meno io pure posso chiudermi in una bolla non lo farò magari in quanto uomo eterosessuale lo farò in quanto Alessio perché magari che cazzo ne so sono stato sono bullizzato vado a scuola superiore e mi hanno bullizzato allora io mi chiudo in una bolla fatta di amici che mi riescono a capire ma in realtà è una cosa che facciamo tutti quanti naturalmente cioè tu difficilmente tu Marco stai in un ambiente in cui non ti senti a tuo agio perché tu stesso stai creando una bolla io stesso mi creo una bolla perché tutti quanti noi attivamente cerchiamo abbiamo bisogno di protezione certo esattamente più che di protezione ma di stare proprio bene perché in realtà ce lo meritiamo io non penso che si possa mettere al al bancone degli imputati al banco al bancone come cazzo si dice al banco al banco dei pegni al banco dei pegni degli imputati chi cerca semplicemente di fare quello che in realtà tutti quanti noi facciamo tutti i giorni lo faccio io lo fai tu lo fa tu madre lo fa mi madre lo fa tutti perché noi come proprio come specie umana siamo portati a circondarci di persone con cui andiamo d'amore e d'accordo perché altrimenti se ci circondassimo di persone tossiche abbiamo un problema noi oppure evidentemente ci sono delle dinamiche sociali un po' più complesse ma in realtà lo facciamo tutti non credo che Hollywood Vibes sia così tanto criticabile nel momento in cui tutti quanti noi lo facciamo attivamente in maniera che neanche riconosciamo certo 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 il mio discorso era veramente il punto più intanto raccogliente degli altri ma anche il più estremo perché noto io sto da io penso che l'unico plauso che mi può essere che può essermi accreditato è quello di aver vissuto l'internet da tanto tempo la gente che c'è da internet dall'inizio può dire qualcosa in più e quello che io ho notato è che c'è questa specie di strana allergia che la gente sta sviluppando verso la sofferenza che va ben oltre quello che dici tu ovvero certo che ognuno vive la sua bolla e deve proteggersi da vere catastrofi che la vita farà arrivare ma io noto che anche le più microbe iniziano veramente a creare degli ictus nelle persone penso che noto che internet prende che la gente prende molto peggio certe cose e su questo punto qua io non riesco ancora a capirne la fonte ci penso spesso e mi informo spesso e ho anche cominciato da un cinque anni a questa parte a leggere prima non lo facevo e tu non so se leggi forse forse su tiktok hai detto qualcosa no no ho fatto rite come mi hai chiesto non so se leggi ma sai leggere adesso ma non sai perché perché io ho iniziato da poco e per me è come sto parlando per la prima volta dello zucchero ma tu hai mai mangiato le caramelle perdonami la libreria qua dietro ora non leggo in realtà da un po' di mesi in realtà sarà che parlo solo con nerd di merda che hanno solo libri dei videogiochi porca miseria perdonami sto sempre sulla difensiva da sto punto di vista ma perché la gente sta sempre sull'attacco cazzo scusami no no ho fatto rite come hai detto io ti consiglierei di non mi ricordo come si chiama perché sono un po' razzista e non voglio imparare i nomi cinesi la società senza dolore oh scusami leggito è piccolissimo ma è anche un po' il libro che mi ha ispirato per il terzo punto te lo consiglierei volentieri quello che volevo dire io era che noto che adesso c'è un'allergia che sta dilagando e ho paura ma qua veramente andiamo sull'ipotetico perché non voglio dettare cose ho paura che questa allergia al male anche quello piccolino anche quello banale tipo non parlare del tumore se no viene a qualcuno possiamo averla contratta dalle persone o estremamente piccole o estremamente grandi che adesso ci sono online perché da quello che ad esempio ti posso parlare di quella che era la mia adolescenza io conoscevo persone che ovviamente stiamo parlando di un contesto siciliano quindi gente abituata ad avere genitori che ti dicono se non stai male sei un idiota e questa cosa qua secondo me ci rende fondamentalmente diversi a me a te cioè a me serve stare di merda ogni tot ma non fino a un certo punto da ritire a una persona che invece vuole stare bene ogni tot quindi sì capisco il fallimento della nostra comunicazione da questo punto di vista basatosi sul nostro siamo fatti così ma c'è una grande differenza fra i ragazzi che conoscevo io i ragazzi che ci sono adesso perché i ragazzi ci sono adesso ma anche solo banalmente nella musica che ad esempio per quanto viene bistattata quella trap comunque parla un sacco di come le persone vivono l'amore oggi tipo fanculo scu scu pensi che sei l'unica troia della mia vita addio ok coglione ma ci stai facendo una canzone sopra dillo che sei innamoratissimo perché perché stai stai scappando dalla normalità del dire che anche tu hai il cuore debole perché ti stai come avevo detto nel video coprendo solo di good vibes io io ma veramente riusciamo questo questo in realtà forse ti ho fatto l'esempio più becero ma che incorpora benissimo quello che era il mio messaggio perché ci stiamo scutando almeno apparentemente perché stiamo dando un'immagine di noi come immune al male quando è palese che non solo ne abbiamo veramente bisogno per capire ma non solo come reagire all'oppressione se siamo oppressi ma anche come cazzo sviluppare dell'empatia se non lo siamo io non vedo l'ora che mia madre muoia per certi versi per certi versi io amo mia madre amo mia madre ma so per certo certo viva la madre ma so per certo che a volte sei così fortunato nella vita che ci sono dei codici che porca puttana non puoi avere se non ti succede qualcosa e spesso questi codici hanno a che vedere con l'empatia molti dei maschietti di cui parlavamo prima si comportano in determinate maniere perché non hanno mai avuto quei codici là e io da questo punto di vista un po' perverso un po' Tim Burton amo queste sofferenze primordiali più comprimordiali intendo che esistono da così tanto tempo che ancora oggi arrivano nella vita indipendentemente da come la viviamo noi e indipendentemente se ce lo meritiamo o no da qui la famosa frase muoiono sempre i migliori mia madre non è la migliore quindi secondo me vivrà fino a 100 anni la troia scherzo questo è uno scherzo voglio bene a mia madre non è una troia non ha mai trombato nessun altro oltre mio padre che scema vero più scema che troia vabbè detto questo per non cadere in un mio pseudo video è questo volevo dire questo qua cioè che non voglio non desidererei mai per me quello che penso stia succedendo un po' alle nuove generazioni che entrano online ovvero che veramente fa così schifo il dentro l'online il connettersi che merda se biasimo e non biasimo allo stesso momento il volersi creare uno scudo totalmente indistruttibile al male allora c'è ci sono un paio di cose in realtà che devo allora tu come sai ho un po' una certa attinenza a fare fra virgolette un po' di fact checking su alcune cose che vedo e che sento certo c'è stato un pezzo del tuo video in cui tu hai parlato di censura del politicamente corretto sì in una maniera secondo me non attinente a quella che è la realtà delle cose e hai mostrato come diciamo fra virgolette anche prova a livello le biblioteche americane c'era no è l'articolo l'articolo dove si parlava della censura dei libri eh quella là quella là sì sì ah ok ok allora io è una critica che ti facciano perché vorrei che fosse costruttiva questa cosa qui sì se noi andiamo a vedere all'interno di quello che è quell'articolo lì che è stato scritto da sì sì l'ho letto tutto quello là quello lì parla del di quella che è la censura dei libri nella stragrande maggioranza dei casi lgbtq e libri in cui si parla di avere protagonisti afroamericani sì e libri in cui si parla anche del razzismo d'america questi libri qua nella stragrande maggioranza dei casi sono stati censurati dal partito repubblicano americano o comunque da associazioni conservatorie ma era qual è il motivo per cui li ho messi ma era proprio quando io parlavo di carnefici e oppressi si scambia il ruolo cioè io un po' per quello ho scelto l'immagine là se ho creato conclusione me la prendo totalmente ma era proprio quello il senso cioè il punto è questo cioè se tu mi presenti questa è una critica costruttiva che cerco di fare se tu mi presenti un punto ed è il politicamente corretto censura e mi fai vedere un articolo in cui in realtà andandolo a leggere si va a leggere il completo opposto cioè che non è il politicamente corretto che censura ma quelli che attivamente vanno contro il politicamente corretto quindi le organizzazioni conservatrici cioè il partito repubblicano con 801 titoli e banditi in Texas 566 in Florida 457 in Pennsylvania e questa è soltanto la superficie della cosa addirittura ci sono delle associazioni come Pan America che ha fatto un report che qui è abbastanza interessante perché si parla comunque di censura anche da parte di quelli che sono degli stati americani a maggioranza democratica ma i numeri proprio messi a paragone non sono minimamente comparabili fra loro ma ripeto ma ripeto era proprio per quello che ho usato l'immagine contraria in quel momento là dove ho messo io ho cercato veramente in maniera faticosa ci ho messo un casino a fare quella roba là nonostante entrano due immagini vicine oppressi e oppressori ho veramente fatto un via vai di immagini che la prima contraddiceva quella seconda tu pensa che l'ultima immagine che ho messo là quando dicevo svilemento di ogni ideale era trez e trez è il luogo che determina che è politicamente corretto ma non è vero un cazzo che non si può dire quello che si vuole ho messo quell'immagine là e tutti l'hanno capito almeno di quell'immagine là ma perché è da scemi non capirlo si può dire il cazzo che si vuole su trez cioè c'era veramente uno schifo io quel momento là non parlavo proprio di politicamente corretto e di censura quello l'ho fatto un po' prima anche quando prendevo in giro il fatto che non si poteva dire più niente ma là l'ho fatto perché proprio volevo mettere queste due immagini vicine e far vedere tutto quello che succedeva di ipocrita sia da un lato che dall'altro se non è arrivato questo messaggio fallimento totalmente fallimento totalmente mio perché quel articolo là l'avevo letto ovviamente prima di metterlo ci ho messo tre ore per scegliere ogni immagine di quella roba là pensavo avrebbe suscitato un ah vero quindi ogni parte sbaglia da un certo punto di vista e invece tu hai capito il contrario mi dispiace però veramente mea colpa l'ho scelto veramente in maniera con grande volontà quella roba là l'ho fatto a posto diciamo che non è per continuare la critica o per continuare la polemica ma se tu mi fai un discorso su politicamente corretto e sulla censura che farebbe il politicamente corretto però ripeto là non stavo parlando di censura ma là ho detto tipo a volte i crimini cioè a volte le colpe degli oppressori sono uguali a quelli degli oppressi come ta 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 ma non stavo parlando solamente quello là degli oppressi ma anche degli oppressori questo là non era più politicamente corretto ma come parlavamo fra di noi era da un po' che non parlavo di censura del politicamente corretto ok parlando di censura del politicamente corretto se non è questo il caso visto che comunque si parla di censura di quelli che sono opposti al politicamente corretto qual è un esempio di censura che ti viene in mente censura politicamente corretto a me aveva dato non è tanto censura quanto era ti ricordi quando era successa quella cosa là dei doppiatori americani che si ribellavano perché tutti avevano avuto questa epifania che non potevano doppiare il proprio personaggio se non appartenevano una letterina di quel personaggio là ti ricordi quando era successa quella cosa là la gente non solo aveva iniziato ma su twitter era diventato io mi ricordo sempre di Bojack Horseman immagino lo conosci anche solo per sentire la doppiatrice di Diane e Diane è un personaggio dalle origini vietnamite sì vietnamite che questa notizia qua si scusava e poi dopo di lei una carrellata di gente che si scusava e che tutte queste cose qua che diceva merda se tornassi indietro non farei più questa cosa e per me andrebbe censurato da questo punto di vista le opere che ritraggono persone magari di colore o con una certa etnia doppiate o comunque voice actate da persone che non hanno quell'etnia o che non possono capire minimamente vabbè sto gran cazzo però qui non si parla tanto di censura alla fine il fatto è questo ma io in realtà nel video l'unica volta che ho parlato di censura del politicamente corretto era quando ho detto il politicamente censura ma ogni volta che parlavo di mutismo o di state zitti eccetera eccetera era solamente quando parlavo di oppressori e oppressi non praticamente corretto che censura ma io pensavo di aver reso questo punto chiaro quando ho detto vedete che si può dire il cazzo del suolo e ho mostrato quelle fonti là per quanto riguarda questo esempio che ti ho portato io perché lo metto a livello di censura perché a un certo punto su internet si era creato questo enorme miasma di persone che dicevano ma ci sono delle opere che effettivamente devono essere abolite perché non solo magari ritraggono persone che vengono doppiate da robe così ma ci sono anche dei videogiochi fatti così bisognerebbe cancellarli non solo ci sono degli mi ricordo che c'era The Office quello era sempre di Ricky Gervais che volevano buttare giù delle cose non solo perché adesso c'era la grande moda di dire la grande cosa di dire chi doppia vabbè questa cosa qua che ha detto la doppiatrice di Diane che non mi ricordo il nome sorry scusatemi ma adesso pure le dinamiche che ritraggono un momento che non è adatto a come dovresti educare oggi riguardo il razzismo riguardo le etnie riguardo il gender la sessualità vanno eliminati qua si parla veramente di un ci stiamo veramente però qui attenzione per come uno presenta anche visto che parliamo sempre di critica a quello che è il modo di comunicare le cose a quello che è il modo di fare a quello che è il tono che si usa la critica che io in questo momento ti faccio è relativo anche e soprattutto al fatto che se si parla di un argomento come quello della censura del politicamente corretto che per quanto mi riguarda non esiste perché il politicamente corretto non ha nessun tipo di potere nelle mani si non è un movimento non è un movimento vero esatto non è neanche un'entità non ti puoi iscrivere al movimento politicamente corretto esatto non c'è nessun tipo di entità ma soprattutto quelle poche persone che stanno veramente al potere e che hanno potere economico politico anche mediatico io sinceramente fatico a credere che queste persone abbiano una qualche voce in capitolo specialmente qui in Italia tra l'altro che l'informazione è abbastanza amico ma vedi che stai veramente sei veramente sono dalla tua parte io penso che anche la cancel culture non esiste perché il politicamente corretto sta facendo cancel culture ma esiste perché che effettivamente potere si sta cagando così tanto addosso di determinate anche minoranze che hanno un potere mediatico comunque online molto rilevante e quindi devono necessariamente togliere il potere ai loro adepti per dire visto abbiamo fatto cancel culture possiamo essere amici adesso guardate il mio show comprate le mie cose no certo però comunque è un effetto di quello che dovrebbe essere un ordine che alla fine crea disordine io per questo mi rompevo il cazzo ogni volta nel video nominare il politicamente corretto perché poi sembrava come infatti hai erroneamente capito tu ma ripeto è mia colpa soprattutto nel punto di oppressore oppresso che allora stia sempre parlando di questo fantasmagorico movimento e stessa cosa anche per quanto riguarda il discorso che hai fatto sulle aggressioni fisiche mi sembra come l'hai chiamato tu sulla violenza fisica sì ok su quel punto tu hai messo un ed è una cosa in realtà che poi ho cercato un attimino di informarmi ed è veramente greve quello che era successo avevi fatto vedere questa immagine di una donna che loro chiamavano in maniera anche abbastanza canzonatoria tipo dei dem come se fosse diciamo qualcosa di sì solamente perché aveva i capelli colorati se non sbaglio esatto questa donna qua praticamente andando a vedere quelle che sono le cose che effettivamente sono successe questa donna qua praticamente stava con sua moglie e la figlia che sono una coppia lesbica e c'era mentre passavano su questa cazzo di strada c'è stava sto raduno di un certo partito freedom party of british columbia che è il partito della libertà della columbia britannica che è un partito canadese di estrema destra si stralsi qua appena hanno visto lei che ha i capelli colorati hanno cominciato a molestarla a vessarla e quindi praticamente lei è successo è andata là dicendo confrontandosi dicendo aspettate ma che cazzo vuole dire io sto con mia figlia rendetevi conto e lì sono partite le mani ma le mani sono partite perché lei in qualche modo è andata lì a confrontarli chiedendo di non venire di presa di non essere presa per il culo di fronte alla figlia e ha ricevuto un pugno in faccia infatti poi lei ce la faccia tutta quanta insanguinata qui cioè allora presentare non è iniziato lei lei è andata lì e ha detto che cazzo stare a fa loro l'hanno insultata praticamente usando degli insulti lei lei ha alzato le mani e poi ha alzato le mani lei ha sputato addosso a un tizio e dopodiché si è creata una ressa per la quale poi tipo due uomini o uno mi sembra particolare l'ha presa a pugni in faccia lei comunque è anche abbastanza corpulenta si è difesa in maniera abbastanza egregia più o meno anche se comunque ci ha preso una cascata in bocca e in realtà la faccia insanguinata questo esempio qui è un altro esempio di come in realtà bisogna stare attento attenti a quello che noi facciamo quando facciamo comunicazione perché nella stessa maniera in cui tu critichi il politicamente corretto in questo momento io critico il tuo contenuto perché credo che sia molto importante mettere quelli che sono dei paletti su delle narrazioni la narrazione che si porta avanti dell'aggressività fisica se andiamo a vedere anche semplicemente ma molto semplicemente quelli che sono dei dati che sono abbastanza oggettivi nella stragrande maggioranza dei casi e nel corso di questi ultimi anni purtroppo c'è un aumento dell'aggressione non da parte di chi è oppresso e si ribella perché si è rotto il cazzo no 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 sono loro che vengono aggrediti molto più spesso ma certo ma è aggressione comunque cioè ci sono ci sono veramente degli aumenti incredibili per quanto concerne le aggressioni però col senno di prima allora che vuol dire che doveva uscire i dati lei e dire ok di meno io do il pugno sono più legittimata no no perché sembra invece che ogni volta che si parli di questa cosa qua ovvero può succedere di meno ma è comunque un'aggressione e io ho scelto quello perché potevo sceglierne altri però anche qui dico anche qui quello che dicevo all'inizio cioè mettere sullo stesso piano la reazione emotiva perfettamente sensata di una mamma che sta con una propria bambina e che viene insultata su base omofoba e che viene chiamata in ogni singolo modo in cui tu possa immaginare e che come reazione a oh ma avete rotto il cazzo perché mi state molestando e sto con mia figlia io devo difendere mia figlia mettere giusti i telefoni e non rompeteci il cazzo perché siamo una famiglia che voi non accettate che esista perché siamo una famiglia arcobaleno quando poi lei sputa addosso a uno e quello là gli da un pugno in faccia io sinceramente parlando non riesco a vedere una concomitanza e una concorrenza di colpa o di responsabilità qui dentro io vedo un'aggressione da parte di un gruppo di persone che non accetta l'esistenza di questa stessa persona e vedo una risposta che è perfettamente assolutamente sensata di una donna che dice ma avete rotto il cazzo ma certo ma io non sto dicendo che non è non sto dicendo che è insensata non mi ho detto che non è insensata io godo pure a vedere queste cose cioè è viva prendersela con chi se la prende con te e a volte anche un po' in maniera magabra anche negli stessi modi però sono gli stessi modi aspetta aspetta gli stessi modi fino a un certo punto perché lei comunque sputa addosso a uno e poi gli da un cazzotto in faccia è come se muove con la teta era un cazzotto in faccia e tu mi raccoltelli sulla gola ora non voglio fare il rompioioni ma io da quello che mi ricordo aveva iniziato lei alzare le mani ma secondo me è pure questo non importante perché io non volevo ripeto non volevo mai metterla nel nel modo di dati o queste cose qua solamente nel guardate che questa cosa qua sta succedendo ed è simile cioè i cazzotti sono cazzotti che tu sia stata più scazzottata nella vita comunque rende il tuo cazzotto comunque un cazzotto e magari è l'inizio di 3 4 5 mille io spero di no però era un po' un invitare al guardate come ci stiamo comportando poi ne ho messo anche un altro non so se ti sei accorto hai presente quel tizio là che forse dovevo fare al contrario che mettevo questo dopo quello prima quello là che fa sempre change my mind ah ok si si quel tizio là ah si si ti sei mai visto i video di quel tizio là i video? no i video no io ti invito di farlo perché quello là forse aspetta però non stai parlando di aspetta quello che si mette col banchetto il banchetto eh aspetta però mi viene in mente Destiny non è Destiny no è proprio quello là se non sbaglio che ha iniziato proprio il meme tipo bla 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 change my mind mi sa che è proprio lui quello là che si mette nei campus dei ragazzi e fa sta roba qua comunque aspetta se parli di Stephen Crowder si lo conosco aspetta 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 è Stephen Crowder si però attenzione che così per credo parliamo di un tizio di estrema destra no ma è lui ma se non è lui ok no 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 al di là di questo qua no 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 volevo parlare di lui no perché con lui a volte pure non sono d'accordo anche anzi la maggior parte delle volte ma lui a differenza ad esempio di queste persone qua di cui stai parlando tu si aspetta aspetta perché per chi si vuole vedere la live magari sa che mentre cerchi dico una cosa sempre su questo su questo su questo punto quando si parla di aggressione di aggressività Stephen Crowder si parla sempre di un di un discorso di dislivello di potere cioè il dislivello di potere che ha un partito di estrema destra o comunque di destra alternativa come appunto il partito che stava lì a fare il suo raduno che attivamente cioè al proprio attivamente si mette lì e vedendo una famiglia con due donne e una bambina decide di dire oh cioè capito a lesbica capito no si 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 no io ho portato l'esempio suo perché dopo ho messo il video perché ad esempio lui nonostante idee del cazzo a volte anzi più delle volte lui con grande calma fa le cose e a lui è successo varie volte di gente che alzava maniche distruggeva un po' le cose che andava a rompere il cazzo ma il fatto è questo che veramente queste robe qua potrebbero essere come dicevi tu all'inizio sherry picking ma io penso che veramente ci dovrebbe essere cioè le volte in cui io uso me come esempio ma è un esempio che fa schifo perché sto molto meglio di gente che sta molto peggio di me ovviamente per quanto la frase sembra stupida ma non siete d'accordo con quella persona là che non ti sta neanche facendo una platea contro vattene cioè non rompere il cazzo questa cosa qua è l'ausata non per far capire aha pure voi avete sbagliato quindi possiamo continuare a rompervi i coglioni no quello era il momento del video dove infatti è la fine del secondo punto dove ho iniziato a dire queste cose per dire ma non vedete che al di là dei dati che ad esempio tu spesso mi citi per andarmi un po' contro abbiamo le stesse cazzo di reazioni abbiamo reazioni grazie mille Isabel ti mando un bacio e abbiamo delle reazioni super legittime super facili da spiegare anche senza spiegarle allora siamo fatti della stessa cazzo di solfa cioè se c'è se come dici tu con i cazzo di fiorellini e col mostrare amore non abbiamo mai ottenuto niente allora io inizio a mostrarti che a volte schifo lo facciamo nello stesso modo magari non nello stesso numero ma siamo la stessa cosa quindi veramente non riesco più a trovare dei punti in comune per mettere in pace le persone e qua non stiamo neanche parlando di quelle persone là che c'erano nei video ma di quelle che parlano delle persone che ci sono nei video perché se c'è qualcosa che abbiamo in comune è sicuramente quell'odio che a volte come hai detto tu naturalmente nasce let's go ma se io fossi stato in quel momento là ma al 100% io non mi sarei mai messo là a dire aha questa persona qua reagisce nello stesso modo ha dato il pugno prima vuol dire che forse parteggio per quelli no parteggio per l'umanità e parteggiare per l'umanità per quanto possa sembrare una favola vuol dire anche cercare di delineare dei punti che se tu sei una persona trans se tu sei quello là che va contro comunque sono simili in tutti e o scegliamo qualcosa a cui legarci per capire che meglio fare la pace altrimenti mi sa che non solo continueremo a fare la guerra ma inizieremo pure ad abituarci alla figaggine di fare la guerra perché è fighissimo dire io sono contro quello chi è con me 100 persone let's go fighissimo 100 persone si rispecchiano nella mia bandiera questo io penso che ci sia la base ed è questo il cuore della critica che io ho avuto nei confronti del video tuo che si sta tentando di raccontare la cosa come se ci fosse una sorta di parità a livello di responsabilità che è una cosa che ho già detto ma soprattutto che la frase che tu dici che hai detto anche nel video che dici in realtà spesso facciamo tutti schifo no non sono d'accordo non posso fare io schifo alla stessa maniera facciamo tutti schifo non facciamo tutti schifo alla stessa maniera facciamo tutti schifo però qui in questo caso qui pensi seriamente che possiamo ignorare il fatto che c'è una categoria che vuole attivamente con il proprio schifo mettere a tacere l'altra categoria o in casi anche estremi ucciderla no perché perché altrimenti a livello comunicativo questa è una critica a livello comunicativo che ti faccio a livello comunicativo quello che arriva è che siccome loro hanno questo loro che non si sa bene chissà però gli oppressi hanno la stessa reazione che ci si aspetta che in realtà non si aspiga che abbiano perché altrimenti si crea una catena di odio con le persone che attivamente le vogliono ammazzare è sbagliato alla base perché la catena di odio non si è mai interrotta proprio perché non si è mai reagito di fronte a queste persone qui c'è sempre stata una cosa che si chiama connivenza per quanto mi riguarda cioè il dire io per quanto mi riguarda l'intero mondo fa schifo quindi automaticamente io decido attivamente di non avere una posizione perché preferisco vedere le cose un po' più abisuale a volo di gabbiano passami il termine dà adito e dà la libertà assoluta alle persone che per primo primolo di continuare a fare quello che fanno indisturbate cioè il motivo per cui quel partito lì quando ha fatto il raduno e ha insultato che è stata quella donna lì con la famiglia lo ha fatto perché sentiva di essere libero di farlo la donna non sarebbe mai andata da loro cioè quello che dobbiamo capire è che c'è sempre una miccia che parte e la miccia dell'odio non può essere messa nelle mani e la responsabilità non può essere messa sulle spalle della donna che poi attivamente va lì e te fa oh ma rotta il cazzo e te butta giù un telefono o te sputa addosso quello che cazzo fa perché la miccia dell'odio non è la donna che va lì e reagisce la miccia dell'odio proviene da chi attivamente vorrebbe vedere quella donna possibilmente su una picca nella migliore delle ipotesi la vorrebbe vedere senza famiglia perché non ha diritto ad avere una famiglia nella peggiora delle ipotesi molto spesso là c'è stata gente che l'ha presa a pugni in faccia nonostante ci fosse la telecamere aggredirla fisicamente io questo penso penso che si debba fare un discorso di questo tipo se io non posso andare a recriminare le pantare nere ad esempio il movimento afroamericano io non posso recriminare loro di essere state troppo violente perché alimentavano il cerchio della catena dell'odio le pantare nere sono state una risposta fisiologica ad un qualcosa che non avveniva da troppi anni perché non venivano ascoltate ma io non ho mai detto recrimino queste persone no no dico quello che passa quello che passa è che bisogna recriminare pure loro quello che passa è che in qualche modo è così come il discorso che abbiamo fatto per tutta questa live qui usare gli stessi strumenti cioè la stessa violenza magari la stessa aggressività o comunque reagire in una maniera che non sia di volontà educativa ma sia di reazione di pancia perché vado lì e mi hai rotto il cazzo cioè se tu mi dici che io sono nero e che non devo vivere io vengo là ti spacco la faccia non possiamo mettere tutto questo su un piano di responsabilità comune con quelle persone che attivamente vorrebbero vedere queste categorie morte potenzialmente perché l'errore che si fa di non prendere una posizione è quella di creare l'ambiente perfetto per le persone che mantengono l'egemonia comunicativa e anche proprio a livello politico e fisico di continuare a opprimere queste persone qui e quello che è passato soprattutto negli ultimi pezzi del tuo video magari l'ho recepito io così ma sto a sbagliare però quello che passa è esattamente questo io credo che sia passato questo perché oggi è facile che passi questo quando si parla di queste cose qua nonostante io durante il video abbia uscito questa roba qua del cioè non ho mai detto dobbiamo recriminare questa cosa qua io penso che passi solamente perché ormai quando guardi un video sul politicamente corretto la gente dice oh scegli questo scegli questo no io non sceglievo nessuno e dicevo comunque sia reagiamo nello stesso modo perché? ma perché siamo la stessa cosa quando qualcuno gli toglie qualcosa si incazza quando soprattutto sono diritti si incazza ma era veramente un invito a vedere questo come cosa in comune per capirci meglio non come presa di responsabilità no nonostante questo discorso qua un po' mi fa ribellare a quello che dici tu quando si parla dell'online cioè quando online non possono farti altro che romperti i coglioni tu spegni il telefono e quelle persone non le vedi allora un po' di calma dovresti averlo soprattutto quando in bocca hai parole come educazione cambiamento e queste robe qua miglioria sociale società e basta no ma di presenza ripeto non riuscirei mai a essere così anche se vuoi cinico soprattutto davanti a questi dati e davanti a una schifezza come ci sono diecimila vecchi che se la prendono con due lesbiche ma che cazzo è certo però no ma non è mai stata una roba di recriminare ma anche perché a quel punto del video ero anche stanco di parlare di robe come ma è colpa tua è colpa tua no quando si parla però di queste cose e alla fine il video è anche un po' me da questo punto di vista perché parlavo di internet anche se là effettivamente secondo me non è neanche dare così tanta colpa a chi fraintende perché là ho fatto vedere proprio cose vere ho fatto vedere esempi veri forse dovevo forse avrei dovuto mettere esempi solamente online come quando ho mostrato la roba di di quello là vestito da ghost che inquisitor inquisitor sì scusami forse avrei dovuto fare quelle là perché effettivamente parlavo di una comunicazione che parla di queste cose ma in un posto molto safe che ti avvantaggia ma non solo a livello che non possono farti un cazzo ma perché puoi stare effettivamente più calmo anche se sei stato oppresso per un sacco di tempo e semmai soprattutto visto che spetta davvero a te educare gente che non solo è più privilegiata di te quindi che già ha un'immunità verso l'insegnamento soprattutto se viene da uno che che insulta ma che comunque ti serve cioè serve a tutti trovare un punto in comune in queste cose qua ed era un mio forse banale forse un po' da ragazzino tentativo di dire però guardateci nei momenti più bassi della nostra esistenza ci mettiamo due secondi a proteggerci nello stesso modo perché bassi un po' lo siamo tutti se qualcuno ci fa arrivare alla bassezza è questo ok però però sono d'accordo col fatto che davvero quando si parla di queste cose qui è difficile comunicare cioè chi cazzo poteva capirlo che effettivamente senza essere il fautore del video questa cosa qua cioè mi sono spiegato con te ma sono comunque anch'io dell'idea che possa passare quella narrativa l'unica lancia che posso spessare a mio favore è dire oh eravamo a circa 30 minuti a un certo punto diventa anche difficile seguire qualcosa anche solo montarla desiderando che tutti capiscono tutto però a livello comunicativo tutti quanti possiamo sbagliare cioè io pure ho sbagliato sicuramente qualche video ma il fatto è questo il fatto del cazzo è questo che tornando indietro forse avrei cambiato solamente l'immagine ma la comunicazione l'avrei lasciata uguale perché penso comunque che ci debba essere un po' di pancia quando si parla della propria sofferenza o di quello che si vuole parlare e mi paro il culo solamente perché dico ehi internet se non è capito qualcosa me lo dici e io te la spiego come ad esempio è successo ora ultima domanda una cosa che e poi ne ho parlato anche in live su tiktok a un certo punto tu hai detto la frase tipo piccolo scarafaggio di tiktok ora alcuni mi hanno detto ma è una frecciatina io non penso ecco perfetto no 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 veramente questa era l'ultima domanda l'ho pensato anche io che fosse un argine ma ho detto vabbè te pare dai no 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 ma poi il video l'ho scritto tipo cento anni prima che tu contattassi me e Daniele esatto ma sicuro perché comunque fa un video così no 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 se vuoi ti dico a cosa mi riferivo a cosa stavo pensando in quel momento ovvero al fatto che avevano preso su tiktok cerco di ricordarmi ma non mi ricorderò dei video su dei video c'era un tizio che faceva recensioni sui videogiochi dicendo questo gioco qua è di tanto tempo comunque faceva vedere delle notizie un po' fake era un po' la roba del come è successo a te ma a livello videoludico e allora questo tizio rimetteva i suoi video su youtube su tiktok ma montandoli in una maniera che ovviamente aveva ragione lui e poi scrollando un po' io ho messo like a questa cosa per rendere il mio algoritmo una vera merda e ho notato che è molto comune su tiktok fare proprio così cioè vincersela tu metti video abbastanza in maniera integrale anzi se non sbaglio non fai neanche un taglio quando vuoi parlare di una cosa ma c'è gente che fa dei montaggi di video su youtube anche perché a un certo punto mi sa che c'è pure un limite se vuoi fare una reaction montandoli come cazzo vuole lui ho trovato anche dei miei video di alcune live ce n'è una dove io e Daniele diciamo bambino gay si è ammazzato perché gay e ci mettiamo a ridere maledetti schifosi demoni ma come vi permettete vi fanno ridere i bambini no anzi ti invito decontestualizzata ogni cosa è sintetica e quindi più estrema io l'avevo anche messo in integrale perché sapevo perfettamente che non ci sarebbe stato contesto se non avessi messo quella prima parte quindi ho detto vabbè aspetta ammetto loro che ridono ma devo far continuare i video ah l'hai fatta stato qua ti giuro non lo sapevo ti giuro non parlavo di Daniele anche adesso si si no no giuro non l'ho trovata non l'ho vista non l'ho vista ho messo il pezzo intero iniziano in cui ridete dopo che ridete Daniele fa no vabbè chiaramente si scherza cerchiamo di ridere per non piangere perché è una cosa terribile certo era proprio pura isteria poi una cosa su quello mi pare nel VOD dell'altra live quella dove hai fatto il confronto con Carly yes un saluto ciao Carly non so se mi sta seguendo un bacino Carly l'adoro una grande con Rick Dufer insomma il giorno dopo che hai fatto il video sì parlando del fatto rispondendo a qualche commento in cui si chiedeva appunto diceva oh guarda c'è Stalessio che ti sta a fare una live contro su TikTok hai detto che io in realtà avevo criticato te per una posizione che tu avevi espresso in realtà molti anni prima quella là del si è gay per moda sì esatto in realtà però io quello che ho criticato è in realtà era presente nello spezzone in cui tu hai detto se mi ricordo bene qualcosa come questo bambino a TikTok ha visto che è una cosa che tira ha andato a casa e si è ammazzato a prescindere che fosse una battuta io ho criticato il modo ho criticato il fatto di aver detto questa cosa perché può dare veramente adito io pensavo tu parlassi di quella roba là che io dissi tantissimi anni prima nei video degli anime no no assolutamente io fra l'intendimento totale allora no 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 fra l'intendimento totale perché la cosa è che io penso chi pensa chi parla male pensa male e io quella volta là li ho criticati perché con tutto che capisco i vostri personaggi e li accetto e va benissimo non seguo Daniele perché non è nelle mie corde non è che mi sta sul cazzo si è un razista di marda lo odio però se si dà abito ad un certo tipo di in questo momento in questo caso di anche un po' di teoria anche un po' di complottismo in realtà perché parlare nel modo in cui l'avete parlato voi è lo stesso modo in cui ne parlano mi ricordi che notizia era che notizia fosse è la notizia del bambino suicida dopo che si è dichiarato omosessuale ok quella roba lì il modo in cui ne avete parlato in quelle due frasi che poi io ho criticato lascia stare i modi che c'ho io anche su quello io chiaramente ma in realtà anche se lì da quale pulpito dovrebbe venire da parte mia Alessio è un provocatore cioè ma che cazzo no ma figurati no è che magari può dare molto fastidio e me ne rendo conto no magari faccio le facce magari faccio le espressioni magari faccio tutta una serie di cose che possono rompere il cazzo non pensavo che invocando così tante volte Dio ti mandasse suo figlio ti hanno denominato un Gesù a livello perché capelli lunghi ah ok mi mancano i buchi sulle mani ricancello fateli che cazzo aspetti scusa vai aspetta dammi una penna no 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 ti prego ok ok non si può fare dicevi dicevo il modo in cui ne avete parlato purtroppo dà adito ad una certa narrazione che è una narrazione propria di un certo tipo di politica alternativa di estrema destra anzi americana cioè il dire come ha detto Daniele le drag queen che fanno i balletti portano a questo è greve cioè è greve nella misura in cui portano a questo cioè che ti ammazzi questo è uno lui ha detto se tu mi porti negli asilo le drag queen poi si sviluppano questo tipo di meccaniche che sculettano poi si sviluppano questo tipo di meccaniche neanche lo ricordavo e non c'è un collegamento in realtà fra le due cose perché quella volta lì ho criticato per questo perché non c'è nessun tipo di collegamento fra le due cose il suicidio di una persona omosessuale avviene perché c'è un ambiente esterno che ridicolizza l'omosessualità che fa in modo che l'omosessualità rimanga uno stigma l'importante è capire che quindi era tutta colpa di Daniele cioè spero che questo sia il messaggio no 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 la frase la frase che hai detto tu dopo l'ho criticata proprio perché non diciamo per come l'hai detta il fatto di aver detto questo ragazzino a tiktok io l'ho detta solamente perché che cazzo di notizia vaghissima è un bimbo che si ammazza perché è gay cioè per favore idemi molto di più in più quel cazzo di format che facciamo io e Daniele si basa proprio sul reagire alle notizie senza aprire gli articoli è proprio il contrario di fare un'informazione è proprio dare una nostra impronta però apparente a notizie apparenti noi non apriamo mai gli articoli leggiamo solamente i titoli e le informazioni che è l'unico modo che ho per dire ecco il motivo per cui ho fatto così l'unica critica costruttiva che mi sento di fare è di stare attenti anche a questo modo di comunicare nella stessa maniera in cui tu stai cercando di essere attento al modo di comunicare del politicamente corretto in generale cioè il modo che abbiamo noi di comunicare determina il messaggio che arriva alle persone che ci stanno seguendo se tu parli in una certa maniera se ti muovi da oca il becco da oca è probabile che chi ti vede ti vedrà come un oca magari tu non sei un oca però ti vedono come un oca io non credo che tu sia o Daniele sia un razzista misogino omofo quello che cazzo è non lo credo assolutamente no ma quando facciamo questi errori di comunicazione perché per me quello là è un errore di comunicazione si dà adito ad un certo tipo di pensiero che alimenta una cultura eventualmente omofoba eventualmente misogina anche razzista a volte è una critica costruttiva che cerco di farti perché avete tanto seguito e il modo di comunicare che avete in questo caso qui secondo me è stato un modo di comunicare che ha fatto appunto soltanto da dog whistling cioè da fischietto per cani da roba che uno riconosce come appartenente al ah ok sono di quel gruppo lì se tu dici una cosa che sei questo gruppo automaticamente sei uno come me se magari sei un mezzo fascio sei un mezzo omofobo che si spara le seghe sui forum c'è effettivamente un modo di comunicare che io cambio nettamente la gente lo sa quando sono qua da sole quando sono con Daniele cioè mi lascio un po' più andare al se fraintendono questa cosa non me ne hai fotto un cazzo sarà che ed è veramente l'unica cosa che posso dire per difendermi sarà che quando sono ogni volta che ho fatto live con lui fin dall'inizio ci abbiamo veramente cercato di istruire al cerchiamo di non fare schifo per poi quello che è successo comunque possa far sempre il contrario con Daniele tutta la gente che ci segue è la mia svoiatezza nel reagire a quelle cose là non solo dipende dal format ma anche dal fatto che mi fido magari forse un po' troppo chi lo sa ho il fatto che se la faccio schifo in quel modo là comunque sono un po' più sventato ci sarà del buon senso che farà capire che ovviamente se sto dicendo sto partizio qua avrà letto tutto su TikTok e ora si è ammazzato cioè se la gente pensa dopo averci conosciuto per tanto tempo questa roba qua allora veramente cazzi loro ma è anche vero che possono anche arrivare delle persone nuove però si è un po' il mio atteggiamento quando faccio live con lui perché la gente ci conosce da tanto e da quello che ho visto io questo anche magari per calmare la gente che magari segue te non me non ho mai visto grossi danni alla community di Daniele o magari anche atteggiamenti in chat che possono far pensare merda non solo stanno comunicando in maniera avventata ma c'è anche un brutto risultato però è solamente quello che ti dico io no no perché alcune volte in realtà ho visto dei commenti un po' come posso dire però qua si entra pure nel discorso della responsabilizzazione del creator grazie grazie che lo capisci è veramente una cosa con cui combatto ogni volta che scrivo qualsiasi video ovvero certo che mi devo certo che mi devo e forse è quello l'unico l'unica volta in cui guardo tutte le approvazioni ovvero cioè non le uso per capire quanto sono stato bravo ma quanto non sono stato non bravo non so se mi stai seguendo un po' confuso però nel senso sì è questo come ad esempio quando è entrato l'altra volta Carli in chat in live in chat c'è stato un po' di merda c'è stata non ho letto non ho letto cosa era successo io so che lei sta un po' sul cazzo lei me lo dice ogni volta che ci vediamo me lo dice online sì 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 no ma non per lei in realtà cioè non per il fatto che sta sul cazzo a quelli come noi no 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 a quelli come lei ah ok no no in realtà in chat si era creato un momento in cui c'era parecchia parecchia transfobia in realtà che cosa dicevano non so se si può dire dico lo cazzo tanto è colpa loro li ammazzo travello travello cos'è travello sarebbe il diminutivo di cioè il diminutivo abbastanza offensivo di transestuale chi è stato chi è stato hai nomi non mi ricordo chi è stato però ecco qui si entra in una discorso di non possiamo sempre controllare quello che viene detto da parte delle nostre fanbase nello stesso momento però la critica che mi sento di farti che non è una critica ma è un consiglio se ci sono alcuni messaggi sotto i miei video e ce ne sono alcuni sotto i tuoi video evidentemente perché quelle persone si sentono a proprio agio a scrivere certe cose nella stessa misura in cui a te scrivono certe cose sotto di te scrivono certe cose sotto di me non le scrivono proprio perché sanno che qual è il mio set di valori a cui faccio più chiaro cioè perché sono più chiaro su quello non è non te sto a dire ah no tu attiri tra transfobici dico che se io inizio a vedere della gente sotto la me che comincia a inneggiare il duce è perché evidentemente sto a fare qualcosa che è sbagliato evidentemente c'è qualcosa che dico che li fa triggerare secondo me la cosa sbagliata di quella live è che non ho messo tre mod invece di uno perché sono un cazzo di lo dico nazista con chi spara cazzata ma soprattutto nella mia chat ma nel senso che non transigo però grazie al consiglio e io quello che invece ti darei a te sarebbe quello di veramente stringere i denti anche quando abbiamo a che fare con gente che si gira dall'altra parte e te lo dico perché do lo stesso consiglio a me ogni giorno per quanto sia impossibile è una cosa un po' complicata però è complicata è complicata non è per niente facile ed è per questo che mi viene da dare il consiglio perché non penso ci sia un male estremo nella mia comunicazione o un male estremo nella tua ma come abbiamo visto potrebbe capitare sempre sia dal lato che dall'altro ed è proprio là che dobbiamo dire al di là di quello che di come lo facciamo comunque stiamo comunque facendo un messaggio di bontà perché vorremmo volerci tutti bene anche se sembra che qualcuno voglia mantenere il diritto di romper i coglioni agli altri perché che figo eh beh niente no io in realtà avrei finito con questa lettura di coglioni di critiche che avevo scritto ho fatto passare tre ore lo so però penso che fosse necessario mettersi anche un attimino a confronto su questo ecco diciamo così io volevo ringraziarti anche per tutto il tempo che hai dedicato no tranquillo per me in realtà è più utile fare questo che che stare lì da solo nella mia live a dire no secondo me Marco ha sbagliato questo questo e questo uguale uguale anzi anzi ti dirò è quella bolla di cui parlavi tu attanaglia tutta la gente che magari come me nel corso del tempo anche per motivi per argomenti completamente diversi dal politicamente corretto si è fatto una nomea di totale amore nel senso che se oggi parlo il politicamente corretto posso anche parlarne in maniera totalmente sbagliata tutto ok? eh sì sono morto per momentaneamente scusa poi posso parlare in maniera sbagliata comunque otterrei comunque più grazie Grace un bacione otterrei comunque più approvazioni che pomodori in faccia lo riconosco è una merda ma è anche per questo che mi fa molto piacere parlare con con il diretto contraddittorio anche solo per chiarire i punti io immaginavo che sarebbe finita come è finita ma lo si fa anche per tutta la gente che ci guarda e che è molto facilitata a vedere nella tua live me come il club opposto e nella mia te come il club opposto è forse la cosa che più odio di internet oggi che è molto facile prendersela con una persona o con un influencer quando non lo conosci soprattutto quando sei in un luogo come internet che rende ironicamente difficilissimo conoscere qualcuno nonostante ci stai veramente un click anche banalmente come dici tu a leggerti i cazzo di articoli è veramente una dei tuoi cavali di battaglia su tiktok eh oramai si purtroppo me ci portano a fare certe cose ma per forza di cose cioè non è che mi sono trovato a fare un po' il fact checker di sto cazzo che non sono perché non ho nessun tipo di di non lo so di di titolo di studio ma il fatto è che il fatto è che il fatto è che il fatto è che non dovresti neanche avere un di titolo di studio dovrebbe essere un po' il se devi sapere di quello di che cazzo stai parlando eh altrimenti ma soprattutto io in quel momento là e a quanto pare ho finito in quel momento là quando tu hai parlato della roba quando ho detto perché la cosa delle biblioteche cioè la roba della censura cioè ci sono stato così tanto tempo a dire quale cazzo di immagine metto qua perché sapevo che era il momento più fraintendibile del video perché in un certo senso stavo facendo un paragone fra gli oppressi e i tizi e veramente ragazzi questa cosa la dico perché voglio in un certo senso proteggere paracolare dite la parola che vi piace di più che fa incazzare di meno o di più chi come me si ritrova a a volte voler anche sbagliare per il gusto di sbagliare cioè a volte voglio poter dire qualcosa che potrebbe rasentare il razzismo solo perché mi serve qualcuno che mi dica oh la smetti sta cosa qua ma la gente a volte si caga addosso perché è solo molto famosa e quindi ogni singola cosa che deve fare deve essere a puntino e poi succede che sbaglia in una maniera che caga magari fuori dal vaso e si ritrova la morte addosso era un po' come era successo tipo a sabaku che era sempre sempre stato visto come il cazzo di santone però è successa quella cosa là e la gente me compreso lo volevano ammazzare ti ricordi quando era successa la cosa che si era scoperto nel canale suo di fenrir cazzo tradimento no ci dobbiamo lasciare oh si aspetta che si sono lasciati perché lui l'ha tradita tipo no che cazzo è successo allora si sono lasciati per cazzi loro ti dico solamente che il l'effetto che ha avuto lui che è stato anche l'effetto che ha fatto sì che non solo mettessero video a profusione su questa storia ma che poi li cancellassero tutti ha ricevuto un po' di merda ma nel senso che tuttora è diventato un meme dire sì sì come quel fredifrago di sabago cioè la gente sì 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 la gente non vede l'ora ma io pure nel senso io me l'ho pure presa con lui per motivi per cazzi miei gli avevo pure chiesto scusa però nel senso è molto facile è gotereccio anche prendersela con qualcuno di grande quando cade dimenticandoci che a volte l'unica differenza fra me e te è che io ho quel numero in meno o in più o viceversa comunque sia è una roba come il fat checking o il rendersi conto di quello che si dice che dovrebbe essere comune a tutti indipendentemente dai propri numeri e questo è veramente un messaggio che voglio mandare non solo per legittimare quello che è il nostro lavoro perché comunque facciamo questo online ma anche chi segue l'altro club e quando sei nell'altro club è molto facile dire l'altro club è una merda perché è facile perché non ti legge perché non stai avendo un confronto come quello che stiamo avendo noi e a mio parere internet da questo punto di vista dovrebbe un po' tornare agli albori degli albori dove tutti ci conosciamo abbastanza bene da non fraintendere quando in un video ci può essere possibilità di fraintendimento e odiare quando c'è possibilità di odiare qualcuno perché magari ha fatto qualcosa e direi di concludere io almeno con questo tu si no ma io pure non ho null'altro da dire se non appunto aver fatto questa critica che sentivo di fare perché ho avuto una reazione emotiva abbastanza forte quando ho visto il video grazie mille grazie mille quello che ti posso promettere è che questo sono davvero serio perché sono molto romantico in queste cose la prossima volta che monterò un Marco parla male di cose perché quel format là ti giuro che avrò la tua faccia fra quelle là no ma ti giuro ti giuro ma nel senso che ogni volta che monto questi video ho delle persone a cui penso tipo ma cosa direbbe questa persona o addirittura come reagirebbe perché a mio parere è importante quello che abbiamo fatto oggi non solo per chiarire oggi ma per migliorare domani se vogliamo fare un po' i romantici sì 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 i violinisti grazie Alessio buona live buona giornata e quando vuoi ci sono e quando vieni a Milano non esitare a contattarmi se vuoi vederti dai cazzo io a Milano ci posso poco spesso sto a Roma fisso però volentieri cazzo e pure tu se passi a Roma chiamami perché ti porto a mangiare i pizzetti adesso devo andare a bere io in realtà pure passo poco spesso a Roma e allora niente però quando ci passi chiami tanto sto cioè c'hai il mio contatto su Instagram un bacione a te e ai ragazzi della tua chat un saluto un bacione anche a te grazie mille della chiacchierata spero che non mi abbiano insultato nella tua chat non ho letto un cazzo oh no ok è meglio non saperlo chissà che cazzo hanno detto sti cessi vuoi i nomi di chi ha detto transello che cazzo era quella parola travello vabbè ti ringrazio molto e niente ci sentiamo presto se dovessi avere altre critiche te le farò non vedo l'ora che palle vabbè ciao ciao buon lavoro ciao ciao grazie anche a te lunga a volte ribattente sulle stesse cose ma quante poche volte capita di fare una discussione così ed è veramente bello ma nel senso che avrei potuto ripetere gli stessi punti per diecimila volte e a mio parere non è proprio perché grazie mille Tombi e grazie mille a tutti quelli che si sono abbonati nel Durante e che l'ho ringraziato grazie Andraz ciao 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 è nata una nuova amicizia ma è questo è questa la missione questa la missione perché veramente veramente io reputo molte dei molte dei dei modi di chi come Alessio ha in mente lo sfiaccamento ma anche solo il scemo non vuoi capire niente allora vaffanculo come anche solo i rispettosi però li capisco benissimo anche perché io stesso vengo da una anche educazione è una fatica che mi fa veramente dire ogni tanto che è pale ma anche qua con voi banalmente in live quando vi banno quindi buono mi fa piacere e spero che siano divertite anche le persone in live da lui o comunque l'abbiano vista come un modo di darsi i bacini grazie dark white